guarda lei sul fosso va bene perché non è allegra dai se non si intenziona guarda che speriamo qua no io sono nero instagram ah Valeria sta a Valencia non vedi cosetta che aveva a farlo che sta mandaline e cosi vabbè però a me non si impaglia guarda che presto ascoltiamo un po' che mi sia poi c'è Sizzana che si tondola vieni qua a ballare vieni qua a ballare vieni qua a ballare devi ballare perché sei troppo brava qualcuno ti prenderà in giro però adesso hanno un po' di versione quindi adesso è il momento fa la serie anch'io ho una certa di mia età ma dice la vacca no la vacca no dice la vacca guarda la vacca si ricorda no c'è la vacca non in spagnolo ma c'è la vacca ma fatta miseria no ma è diretta dei burbi e lei mi ha messo la vacca come musica ma io non ho fatto il dj io non ho fatto il dj ma io dico ma io dico pure i burbi non ce la vacca pure si non lo tagli ai ticchi no tiziana si vergogna tiziana si vergogna strano eh perché qua faccia però dice che sei vergogna ma ciuccalo che vuol dire ma ciuccalo allora io vorrei solo precisare che è Mayra che scende le canzoni quindi sentite parlare di ciucca dicucca nel lavoro non ho capito la vacca il tutto è scelto da Mayra che voi dite che lei è tanto cara tanto bravina sì Deborah che è puntata la banana Stefano Sbattimi a tarradutto che arrivano in stanza russo di corsa tagliamo E io che ho fatto fino adesso? Ho pulito lo schermo Poi apri la porta che almeno fa salate tanta aria Ho sentito l'ho detto e che vuol dire? Anche Stefano c'è un buon tocco Ragazze io mi vorrei far vedere Tiziano e Stefano quando ballano anche voi riti Guarda se Stefano viene io lo faccio Ma lo deve fare pure Stefano però Figura che Stefano non ti farà vedere mai troppo timido Io lo faccio Guarda se viene lo faccio Stefano Lo sentito Ma io sono allegre Dai Guarda che cagnolino Dove è il berro? Lo vuoi vedere? Ma la giugna là dentro Ma se dice che cos'è? Sveglia? Non fa bene Quando parla tutte però virtualmente stanno tutte a fare un po' di musica Io le vedo Tutti con gli avatar Peccato che non capisco una parola Io le prendo tutte come parolacce Mi vedo probabilmente C'è tutte le cose Vabbè dai Chiudiamo dai Siamo divertiti abbastanza Dai cominciamo a fare persone serie Ben ritrovati ragazze Buon pomeriggio amiche mie Come state? Tutto bene? Sì La domanda io l'ho fatta Ma aspettiamo le risposte Vabbè nel senso Cioè Lei pensa che ci sia un pubblico reale Qui da una piave Tutti Sì siamo belle Ciao Sì Vabbè però possono anche rispondere Scrivendo Maretta alunno futuro Come dicessi infatti Allora Maretta DJ suonerebbe però Vabbè Allora ragazze Ben ritrovate Diretta di mercoledì Sì mercoledì Che giorno è oggi? Che numero è? Mercoledì 30 Mamma mia è finito pure agosto Mamma mia 30 Oh è una volta Eh Che succede? Cioè sembrava che avessi Finito non passasse mai Invece Eh invece pure Te credo stiamo sempre lavorando Ormai che insomma Beate a te bombina Allora Ciao Stefano Ci siamo a Maira E ciao Silvia A posto Ciao ragazze Buon pomeriggio a tutte Ben ritrovati Per questa diretta meravigliosa Di mercoledì 30 agosto Sarà già 30 settembre Ma va bene 30 agosto Allora Oggi Tanti outfit carinissimi Prima di cominciare Naturalmente Ecco stiamo perdendo qualche minutino Per darvi modo Di collegarvi Più che altro Perché Arrivano un po' in ritardo Le notifiche della diretta Molte clienti me lo dicono Quindi all'inizio Dobbiamo sempre andare un po' Perdere un po' di tempo Giusto per fare in modo Che arrivino Gli avvisi Della Della diretta Insomma E quindi Vi possiate naturalmente Collegare Pacco ricevuto Perfetto Va benissimo Ciao miti Guarda Fiorella Proietti Mi fa morire Mi sembra cosa Ciao miti Che è successo Dove vai Dove vai Vuoi ballare Mazzà Oggi cammini Benissimo Io vi farei vedere Ragazzi Queste come ballano Dietro Perché davanti si vergognano Capito Davanti mi fanno stare a me Ma dietro Con la musica Vedi che stile che hanno Tutti e tre Mai Radiziano e Stefano Bellissimi Guarda Meravigliosi da vedere Allora ragazzi Innanzitutto vi dico Condividete Condividete Perché lo sapete Allora Sabato Alle ore 12 Ci sarà L'estrazione Di tre Premi Che abbiamo messo In palio Per voi Per tutte le persone Che condividono Questa diretta Quella di ieri Quella di Di domani Quindi qualsiasi diretta Condividete Condividete Taggate amiche Zie Nonne Cugine Chi volete Perché tutto È valido Ai fini Dell'estrazione Più condividete Più noi inseriremo Il vostro nome All'interno Del bussolotto Che già stiamo preparando Questa mattina Con tutti i nomi Delle persone Che ieri Hanno condiviso La diretta Quindi mi raccomando Cominciate Subito E prendo subito La palla al balzo Per dirvi Che il primo Anzi Partiamo dal terzo Il terzo premio È questa meravigliosa Borsa Bellissima Guardate che carina Bella bella Mi si abbina anche Perfettamente Del valore Di 30 euro Questo È il terzo Premio Mentre Il secondo Premio In palio È questo completo Carinissimo Con una bella Vestibilità Curvy Quindi Tranquille È una vestibilità Ottima Un po' per tutti E al primo Il primo premio Invece consiste In un buono Da spendere Naturalmente Presso di noi Del valore Di 40 euro Ragazzi Condividere Non ci vuole nulla È una cosa Da veramente Da un secondo Invece A noi È veramente Importante Quindi se ci volete bene Ragazzi Aiutateci A farci crescere Le condivisioni Naturalmente Servono a farci Conoscere Ok Allora Detto ciò Visto che già Abbiamo perso Tanto tempo Insomma Adesso vado subito Con le informazioni Quindi Ah Chiaramente ragazzi Potete condividere Quando volete Non per forza In questo momento Anche più tardi Stasera Domani mattina Quando volete Ragazzi Ok Tanto a noi Risultano tutti Abbiamo già cominciato A preparare tutti i nomi Di quello che l'hanno fatto ieri Stamattina Eccetera Allora Per chi non ci conosce Io sono Silvia di Morbidi Passi Ci troviamo con il nostro punto vendita Ad Aprilia In provincia di Latina Vicino Roma In via Giuseppe Verdi 69 Ci occupiamo di abbigliamento Donna Curbi In realtà abbiamo anche Linea Small Che qua e là Ogni tanto Presentiamo Facciamo spedizione ovunque Sia in Italia Sia all'estero Per acquistare da noi E' facilissimo Ci sono due metodi Potete acquistare Sia tramite le dirette Che facciamo tutti i martedì Mercoledì e giovedì Alle ore 16 e 30 Ma attenzione Per acquistare in diretta Dovete essere O già clienti Oppure dovete essere Registrate Registrate vuol dire Che ci mandate un messaggino Su Whatsapp Scrivete il vostro nome E il cognome E da quel momento in poi Potete acquistare Quindi se ci sono persone nuove In linea Che vogliono Diciamo anticiparsi Intanto mandateci un messaggino Noi vi risponderemo In direct Così Al volo al volo Allora Poi Altro metodo per acquistare E' quello tramite le foto Noi postiamo Tutte le settimane Le novità Sia su Facebook Sia su Instagram Voi le potete Prendere Inviarcele Al nostro numero Whatsapp E noi possiamo acquisire Il vostro ordine E poi le potete fare Un po' e un po' Nessun problema Per quanto riguarda i costi Della spedizione A prescindere dal fatto Che dai 50 euro In su Di ordini La spedizione E' sempre Gratuta Ripeto Dai 50 in su E' gratuita Al di sotto Invece 6 euro Se fate ricarica Postpay Bonifico bancario O Paypal Oppure 8 euro Con pagamento Alla consegna Piccola precisazione Non accettiamo Il pagamento Alla consegna Per le nuove Amiche Ok Quindi Prima ci si conosce Un attimino E poi dopo Si può anche eventualmente Usufruire del pagamento Alla consegna Ma come primo ordine Primo secondo Non lo accettiamo Ok Allora Nell'eventualità Facciate un ordine Avete bisogno Di fare un cambio Ci pensiamo noi All'organizzazione Il costo del cambio Naturalmente E' a carico Vostro Ma attenzione Perché non cambiamo La merce in saldo E soprattutto Non effettuiamo Rimborzi Quindi attenzione A questa cosa Che è molto importante Poi L'ultima cosa E chiudo Noi siamo organizzati Lavorativamente In questo modo Vale a dire Dal lunedì Fino alla fine Della settimana Acquisiamo Tutti gli ordini Sotto qualsiasi forma Sia tramite dirette Sia tramite foto Eccetera Il venerdì e sabato Per noi sono Le due giornate Dedicate alla chiusura Dei pacchi Quindi noi Questi due giorni Approfittiamo Per contattarvi Su Whatsapp Vi mandiamo Le foto I prezzi Di quello che voi Avete ordinato Durante la settimana E chiaramente Facciamo la chiusura Del pacco E ci si organizza Per la spedizione Piccola precisazione Anche qui Mi raccomando Ragazzi Ciò che viene ordinato Durante le dirette Tramite le foto Comunque Durante la settimana Deve essere poi Acquistato Che vuol dire Che quello che voi Scegliete E poi dovete Acquistarlo E confermarlo Ok Quindi non Al momento che arriviamo Alla chiusura pacchi Non accettiamo più Quelle persone Che ci dicono No Questo ci ho ripensato Questo non lo voglio più Questo non mi piace più No Allora se scegliete un articolo E dopo dieci minuti Ci avete ripensato Perlomeno Abbiate Veramente La pazienza Di dircelo Subito Perché per noi È molto Importante Ok Allora Prima registrazione Nuova Rotella Fabiola Benvenuta Fabiola Grazie mille La salutiamo Gli mandiamo Le modalità Di Pagamento Ok Benissimo Ci siamo Allora Tu ricordati il nome Oriana Tenaglia Anche un'altra nuova amica Benissimo Allora Oriana Tenaglia E Aspetta un secondino Perché l'altra L'ho messa un attimino Qui Eccola Aspetta Me la sono persa Nei vari messaggi Che ne stanno arrivando Altri Rotella Fabiola Ok Perfetto Ottimo Benissimo Ok Allora Ci sono ragazze Scusate un attimino Ma ero un po' impicciata Allora ragazze Ricordate Condividete Perché a mezzogiorno Di sabato Faremo L'estrazione Dei premi Che abbiamo messo in palio Poi magari più tardi Lo ripeterò Per chi Magari non era Collegato Eccola Perfetto Non era collegato Inizio Diretta Allora Io Anche oggi abbiamo preparato Tanti outfit Carinissimi Ce ne abbiamo circa 20 Speriamo di riuscire Ad avere il tempo Per mostrarli tutto Tutti Intanto parto Con il primo Outfit Ok Nel mentre Se riusciamo Vi facciamo vedere Qua e là Anche Qualche borza nuova La linea nuova Che è arrivata In questi giorni Buon pomeriggio Che mi sono persa Niente Lorella Solo tante spedizioni Che c'è la Manuela Caro Con me Perché Che ho fatto Che ho fatto Non ho letto Stavo pensando Alle spiegazioni Non ho letto Che ha detto Ha detto Non me leggi Per dispetto Lo so Torrotto Non lo so Concentrate Ne dare le informazioni Non leggo Lì Non leggo Perché se no Mi deconcentro E non riesco Allora ragazzi Partiamo subito Con il primo Outfit Del pomeriggio Molto Molto Carina Partiamo A prescindere Da un articolo In saldo Vale a dire La collana La collana In ecopelle Che da 17 euro Mi scende A 9 euro E 90 Molto Molto Carina E un colore Che adesso Va tanto di moda Perché è un carta Da zucchero Poi Andiamo avanti Con una Maxi Casacca Meravigliosa Un pochino Asimmetrica Come Come taglio Guardate come è particolare Veramente Molto carina E poi Abbiamo abbinato Sotto Il nostro Famoso Bengalino Con i tre Bottoncini Nella parte finale Del pantalone Tessuto Elasticizzato E adesso Nel dettaglio Andiamo a vedere Tutti i particolari Di questo primo Outfit Allora Partiamo Dalla Partiamo Dalla Casacchina Ok Ciao Simonetta Benvenuta Anche a te Allora Ragazzi Partiamo Da questa Casacchina Allora Questa Casacchina È un cotone Trattato Molto Molto Morbido Quei cotoni Un po' Più consistenti Chiaramente Leggermente Più autunnale Ma molto Elasticizzato E comunque Ancora Garzato Però Leggermente Più consistente Più autunnale Ripeto Il prezzo Di questa Casacchina Asimmetrica È di 24 euro E 90 Guardate Guardate La particolarità Di come È fatta Sotto Taschina Grande Questo taglio Particolare Nella parte Finale Allora Di seno Mi fa Da 110 A 140 Sui fianchi Mi parte Da un minimo Di 150 Fino A un massimo Di circa 180 La lunghezza Abbiamo Più o meno Nella parte Più corta Vero Ti avrei presa Proprio la parte Più corta Davanti Nella parte Più corta Proprio quella Più corta Più corta 60 cm Nella parte Dietro Siamo A 86 Per ovviare Al problema Della lunghezza Noi consigliamo Spesso Di mettere Gli allunghi Che cosa vuol dire Quelle canotte Che abbiamo Noi Che spuntano Il pizzo Sotto Quelle un po' Più lunghette Carinissime E utili Utili Per tutte Quelle maglie Un pochino più Magari un po' Più corte Perché questa Non è che lo sia Molto Però Diciamo un consiglio Che vi posso dare Allora I colori disponibili Di questa Casacchina Sono Questo verde Scuro Questo verde Petrolio Questo Color Beige Sabbia Diciamo così Poi abbiamo Un bel color Coccio E Gli ultimi Tre Colori Che sono Un bellissimo Ciclamino Io sono di parte Perché adoro Il ciclamino Il verde Militare E L'ultimo colore Naturalmente Il nero Che non può mai Mancare Ok Ragazzi Ripeto Maxi Casacca Il prezzo È di 24,90 euro È un cotone Un po' Più consistente Un po' Più particolare Ragazzi Condiviso Tutti i miei social Su whatsapp Con le mie vicine Di casa Mi sa che mi manca Il porta a porta E ho finito Brava Lorella Brava Complimenti Grazie Perché veramente Queste cose Ci aiutano Tantissimo Ciao Patrizia Anna Sampugna Dice no Perché Anna Silvia La nostra amica nuova Fabiola Rutella Si Chiede Ma l'outfit Che hai addosso È solo Per taglie morbide Quello che ho addosso Quello che ho addosso In realtà È per tagli Un pochino Più piccine Abbiamo Entrambi gli articoli Sì Il pantalone Ma il pantalone Però l'abbiamo fatto ieri Vero? Mi sembra di sì È il carbo Sì sì Mentre invece La casacchina La vedremo Tra un po' Negli outfit Successivi Allora Poi Andiamo avanti Allora Parliamo Ciao Paola Buon pomeriggio Allora Proseguiamo Con il nostro Bengalino Un tessuto di viscosa Elasticizzato Modello così Dritto a sigaretta Il prezzo È di 15 euro E 90 Di vita Abbiamo Da 90 A 140 Sui fianchi Partiamo Da un minimo Di circa 100 110 Fino a Circa 160 Lunghezza Del pantalone 98 Centimetri Ok Modello chiaramente Slim Cioè comunque Aderente Molto molto Bello Però Ha una Vessibilità Eccezionale I valori I valori Disponibili Del Del Bengalino Il pantalone Bengalino Sono Il blu Eccolo qua Il verde militare Poi abbiamo Il blu Quello Lo chiameremo Blu elettrico Perché c'è una versione Leggermente più scura Di blu Ok Poi abbiamo La versione Con il nero La versione Rossa E l'ultima Versione Il Lilla Ok Rina Ciancio Casacca Nera Ok Va benissimo E l'ultimo Colore Blu Scuro Manuela Ruggero Bengalino Verde militare E nero E Ruggero Ok Allora Verde militare E nero Manuela Ruggero Sì Ciao ragazze Buon pomeriggio Benvenute Stiamo facendo vedere Il primo outfit Del pomeriggio Allora La casacca L'hai già presa Ma è il Perfetto Allora ragazze Per chi si sta collegando Solo ora Abbiamo presentato Una maxi Casacca Con un taglio Asimmetrico Molto Molto Bella Un cotone Seppur Garzato Però un po' più Autunnale Il prezzo È di 24,90 Le misure Sono fino a 140 Di seno Fino a 180 Di fianchi Lunghezza 60 davanti 86 dietro I colori Disponibili Sono Il coccio Il beige Il nero Il ciclamino Il verde Il verde militare E il verde petrolio Che ho in mano Patrizia Natale E il rosso Va benissimo Eccolo Eccolo per te Patrizia Per Giuseppe Lazzolo Ci hai pensato tu A segnare Il verde militare È Natale Natale Patrizia Hai visto Bombina Dovi prendere gli altri Dovi prendere gli altri 27 15 Ok Ci siamo Allora Ragazzi Qui vi lascio Le casacchine Asimmetriche Qui abbiamo Gli ultimi Pantaloni Per quanto riguarda Il bengalino Con i tre bottoni Sotto Vi riperdo Le misure Di vita Arriviamo a 140 Sui fianchi Circa 160 La lunghezza 98 Ok Allora Lilla Blu elettrico Nero Blu scuro Rosso Ed è ordinabile Verde militare Che è il colore Che è finito Che è andato Via Ok Allora Detto ciò Io direi di andare avanti Con il prossimo outfit Anche perché ieri Siamo riusciti a farne Pochissimi Quindi oggi Vorrei provare A riuscire a fare Qualcosa in più Allora Aspetto A riusci Fa Mi dà un po' Questi quindi Non ce li ha In gli outfit Vero Ti Perfetto Ok Allora Ragazzi Andiamo avanti Proseguiamo Con un altro outfit Secondo me Molto Molto Carino Parliamo di una Maxi Casacca Come vedete In maglina Di viscosa Quindi anche Seppur Pur avendo Una manichina Che va da Tre quarti A manica lunga Però Un tessuto Comunque Leggero 15,90 Ecco come dice Tiziana 15,90 Ok I colori Li trovi tutti Qui dietro Ad esclusione Del verde militare Che da ordinare Allora Dicevo Qui abbiamo Una collana Simpatica Con il teschio Color bordeaux Scontata A 6,90 Poi abbiamo Questa maxi Casacca Molto carina Ma soprattutto Molto comoda E parliamo di Vediamo un po' 19,90 euro E in ultimo Un pantalone Nuovissimo Appena arrivato Questa settimana Tessuto scuba Da 17,90 euro Con come vedete Come vedete La particolarità Sono questi piccoli Volant Sulle taschine Sì Rosetta Molto carini Certo che va bene Rosetta Allora Laura Gallini nero Perfetto Laura Te l'abbiamo dato Il pantalone Allora Benissimo ragazze Vado Non lo so Anna Forse qualcosa c'è Quella di Quella di Benissimo Grazie Daniela Allora ragazze Proseguo E vado a farvi vedere E soprattutto A darvi le misure Di questa maxi Guardate quanto è grande Abbiamo anche qui Una forma un po' simmetica Perché abbiamo lateralmente Delle punte un pochino più lunghe Il prezzo è 19,90 Come vi dicevo poco fa Le misure sono Pensate Di seno Mi parte da un minimo di 120 Fino a più di 170 È molto elastica Ripeto Maglina di viscosa Sui fianchi invece Partiamo già da un 140 Abbondante Diciamo che forse qui Anche qualcosa in più di 140 Come partenza Arriviamo oltre I 180 Lunghezza 78 cm Ok Anche questo ovviamente Novità Roberta Maialini Scusa Quanto viene il completo Roberta Semplice Da dire 19,90 La maglia E 17,90 Il pantalone Quindi Grosso modo Con 37 38 euro Fai il completo Che è molto carino Ma soprattutto Molto molto comodo Scusami un attimo Scusami Quando hai tempo Perché L'abbiamo appena detto Magari tra due o tre minuti Li di le misure dei bengalini Perché ce lo stanno chiedendo Guarda Semplice da dire Di vita da 90 a 140 I fianchi arrivano a 160 Lunghezza 98 Per quanto riguarda Il bengalino di prima Il pantalone bengalino Facilissimo Vestibilità Fino a 56 58 Abbondante Allora Andiamo avanti Con i colori Della casacca Abbiamo Il blu scuro Tanti colori Il bordeaux Poi Il ciclamino Ragazzi Come vedete Qui abbiamo Un Va benissimo Roberta Ti metto il completo Come vedete Abbiamo la manichina Che è un tre quarti Piegata E Però in realtà Diventa manica lunga Non ricordo Te lo dico subito Non c'era Daniela No no Tutto ok Allora Quindi abbiamo detto Ciclamino Poi Verde militare Abbiamo anche L'ottanio Come vedete Davanti abbiamo La stampa Di una Di una bella Farfalla Poi Il nero E l'ultimo colore Un color Coccio Ok Poi Proseguiamo Intanto mettiamo La bordeaux Per Roberta Maiolini Tutti e due Sì sì Però il pantalone Lo devo ancora presentare Quindi Intanto Presento Tutto il pantalone E poi lo mettiamo Da parte Intanto Bordeaux Per lei Allora Poi Andiamo avanti Ragazze Con il pantalone Intanto Si smonta Una stampella Allora Il pantalone Dicevamo Tessuto in scuba Quindi leggermente Più autunnale Però in realtà È sfoderato All'interno Quindi comunque Già lo potete Utilizzare Fin da ora Il prezzo È di 17 euro In 90 La particolarità Come dicevo prima È questi piccoli Volant Sulle taschine Tessuto molto elastico Comodissimo Veramente E le misure Sono di vita Da 80 cm Chiuso Fino a 160 Sui fianchi Partiamo Da un minimo Di 130 E superiamo I 170 Lunghezza 107 Quindi come dire Ragazze Che questo può arrivare Tranquillamente Anche a una 58 60 Come vestibilità I colori Che abbiamo A disposizione Sono Questo verde Petrolio Poi abbiamo Questo bordò Che intanto Ne levo un pezzo Per Roberta Maiolini Ma si può ordinare Non ha un problema Poi andiamo Con un color Ruggine Mattone Anzi Il ciclamino Poi Un Blu scuro Perché è la manuela Nero Ok Poi verde Petrolio Ah vuole tutto il completo Roberta Farinelli Che colore ti metto Sopra però Completo verde Petrolio Ti devo mettere Il nero Sopra Sì Prendi il nero Per Manuela Ok Allora Roberta Della casacca Il verde petrolio Non c'è Ti posso Abbinare il nero Se vuoi Ok Oppure Dimmi tu Però Petrolio La casacchina La casacchina Non c'è Allora Poi Andiamo avanti Con i colori Nero Ce n'hai un altro Sì Katia Schiavone Ok Eccolo Allora Infine Gli ultimi colori Sono Il grigio Nero Dice Roberta Nera La casacca Va benissimo Quindi Roberta Farinelli Ti metto Casacca nera Con il pantalone Petrolio Tanto sta benissimo Confermami se va bene Allora Grigio Poi abbiamo Color Coccio Diciamo un po' più scuro Anzi forse terra Lo vorrei chiamare Viola E Ottanio Ok Ripeto Ottanio Viola Roberta ha confermato Poi Questo color Terra Il grigio Proprio antracite Un grigio scurissimo E infine Abbiamo detto Color mattone Ciclamino Blu scuro E l'ultimo colore Un marrone Scurissimo Ok Naturalmente Il nero In questo momento Qui È finito Non è disponibile Ma si può ordinare Non c'è nessun problema Ok Le avevo presi Turchesi Comodissimi Vero Manu Perché questi c'erano Anche l'anno scorso Favorosi Un modello Che veramente Ne vale la pena Veramente tanto Ok Allora Se non ci sono altre prenotazioni Io direi Di andare avanti Ok Mi ridici il prezzo Lorella Il pantalone 17,90 euro Mentre invece Mentre invece La casacchina 19,90 euro Ci sono tanti colori Che si abbinano Per esempio In questo caso Vedete Abbiamo tante Tante cosine abbinabili Vedete Anche così Per esempio Nero Con il marrone sotto Per esempio Con questo Color terra Si abbina bene Perché riprende il disegno Ci sono tante combinazioni Che possiamo andare a creare Che misure hanno Allora I pantaloni Da 80 A 160 Di vita Sui fianchi Oltre 170 Lunghezza 107 Una vestibilità Curvi Vera Che può arrivare Fino a un 58 60 Marrone scuro Per russo Lorella Ok Lorella Fatto Allora Ragazzi Per quanto riguarda La casacca La faccio rivedere Allora Color coccio Nera Ottanio Verde militare Ciclamino E blu Scuro Ah il giro Coscia Ragazzi Questi Sono sempre Elasticizzati Allora Il tessuto Il giro Coscia Senza tirare È circa 68 70 Se tiro Arriviamo Oltre i 90 Centimetri Camicioni Grandi Ci sono In questa diretta Patrizia Guarda Ho tante cose Però Non mi Vi ricordo Che non ho tutto Qui davanti Ok Allora Intanto Andiamo avanti Vi lascio qui I colori Anche del Pantalone Vi confermo Il blu scuro Il ciclamino Il mattone Il grigio Il viola Lottaneo E il color Coccio Ok E vado avanti Con il prossimo Outfit Eccoci qua Allora Sì Vero Molto Molto Comodi Allora Perfetto Ragazzi Andiamo avanti Con un'altra Cosina Secondo me Molto Molto Carina È utile In questo periodo Soprattutto Per il fatto Che adesso Comincia il periodo In cui abbiamo Bisogno Di giacchetti Cardigan Spolverini Eccetera Eccetera In questo caso Aspetta che sia smontata La maglia sotto Ecco lo stavo per dire Allora Ah la stampella Rotta Allora se me la cambia Facciamo vedere subito L'outfit Allora Aspettatevelo Roberta Guarda Per richieste Diciamo Al di fuori Di quello Che stiamo Facendo vedere Scrivetemi In privato Su whatsapp Ok Perché noi In diretta Abbiamo una scaletta Da rispettare Tutti degli abiti Preparati Quindi Non usciamo fuori Dalla scaletta Della Della diretta Ok Qualsiasi richiesta Avete Fatela In privato Appena finita La diretta Risponderemo Allora Pantalone Con ruce Grigio scuro Per Aldia Nippo Va benissimo Fatto Aldia Allora Dicevo ragazze Nuovo outfit Molto Molto Carino Consiste In Una giacca Aiutami Non mi viene Il termine In vellutino In vellutino Molto Molto Carina Tessuto Sempre elasticizzato Abbiamo Abbinato Questo pantalone Sempre in Tessuto Scuba Non pesante Anche questo Ma chiaramente Già Sullo stile Autonale Insomma E abbiamo Abbinato Che secondo me È molto Molto Carina Il pantalone Terra Terra Eccolo qua Eccolo Simonetta Allora Abbiamo abbinato Questa casacca Carinissima Ma non è Tanto bella Davanti Quando in realtà Dietro Perché c'ha Tutta questa Bottonatura Fino a giù Che secondo me La rende Un po' più sfiziosa Un po' meno Solita camicia Solita casacca Ok Allora Intanto andiamo Piano piano A vedere un po' Tutto Allora Partiamo dalla Giacca Che è semplicissimo Perché in realtà Ci abbiamo soltanto Se non erro Quattro colori Allora La giacca è disponibile Nera Questo color beige Panna E verde militare La vestibilità È da un 110 Fino a circa Un 140 Grosso modo Idem per i fiatri Sia seno Sia fianchi Lunghezza 74 Il tessuto è morbido Quindi cede Elasticizzato Il prezzo È di soli 29,90 Ve la voglio far vedere Un po' più da vicino Per farvi vedere meglio Il tessuto Su questo colore Chiaro Si nota di più Chiaramente All'interno Ancora sfoderata Non siamo passati Ancora alla roba Molto pesante Quindi siamo rimasti Nell'ambito Dello sfoderato Allora Quindi dicevamo Come colori Il beige Il nero Il color panna E il verde militare Quattro colori disponibili Ripeto Le misure sono Sia di seno Sia di fianchi Coincidono Circa da un 110 Di partenza Fino a più o meno Un 140 Abbondante La lunghezza La lunghezza Invece è 74 Disponibili Solo Quattro colori Per il momento Sono arrivati Solo questi Quattro colori Poi Vedremo Chiaramente Più avanti Questi sono i primi Giacchetti Chiaramente Di questo Periodo Proseguiamo Proseguiamo Questa volta Con la casacchina Ok Pensateci Ragazze Io ve le ho appoggiate Qui Allora Scusate Un attimo Mi scrivono Ok Allora Dicevo Quindi Passiamo alla casacchina Che come dicevo Ha questa Abbottonatura Dietro Molto molto carina Tra l'altro I bottoni Sono veri Ok Allora Il prezzo È di Vediamo subito 19,90 Come vedete Abbiamo un po' L'effetto a pipistrello Il seno Mi fa 140 Barra 150 I fianchi Invece Mi fanno 130 La lunghezza 65 Nella parte Davanti 80 Nella parte Dietro Ripeto 19,90 Guardate Quanto è carina Fatta in questa maniera Vado con I colori Allora Abbiamo naturalmente L'ottagno Che è questo qua in mano Abbiamo Il nero Poi Il viola Come vedete Tanti colori Tutti chiaramente Super attuali Modello nuovissimo Poi abbiamo Questo color Coccio Ok Il color ruggine Eccolo qua E In ultimo Disponibile anche Nella versione Bianca De Palomone Color Color Panna E intanto Vi faccio vedere Anche dietro Perché così Si vede meglio L'effetto E l'ultimo colore Il ciclamino Che hai fatto? No pensavo Che è? Perché mi piace a me? Non mi piace Petrolio Per Mazzilli Ok Petrolio Aspetta Petrolio Intende il verdone Eccolo qui Per Mazzilli Per Simona E quello è verde petrolio L'altro è ottagno Ok Non mi ha detto niente io Ah perché qui sono mai guardato Panna per Giussi Palazzolo Eccolo per te Giussi Fatto Allora Naturalmente È tutto Ordinabile Ruggine per Maria Maria Rita Benvenuta Maria Rita Buon pomeriggio a te Ciao Tutte Puoi darmi i pantaloni viola Con le tasche Fru fru Brava Daniele Vero Non li chiamavamo Fru fru L'anno scorso Daniele Sembra che lo sapevi Allora Che colore viola Eccolo per te Daniele Bencarelli Ottanio Come? Ah no Ottanio Ok Allora vedi Distinto Te la cambiamo Non c'è problema Ok Allora Quindi il verde rientra Il verde petrolio Il verdone È andato via L'ottanio Eccolo qua Ok Ciao Maddalena Buon pomeriggio Ma perché risale sempre il messaggio? Vabbè Ragazzi anzi Approfitto nel dirvi Ricordatevi di condividere Condividete la diretta Pure stasera Domani Su whatsapp Messenger Sulle amiche Dove fare? Sui gruppi commerciali Che fate parte Dove volete Tutto vale come condivisione Poi sabato mattina Ci vedremo per la diretta Per l'estrazione Dei telepremi Allora Ragazzi La casacchina con i bottoni dietro Mi rimane Ciglamino Verdone Nera Viola Coccio Coccio Terra E bianca È andata via L'ottanio Non mi ricordo Ah vabbè L'altra maniera c'è Ok Che è Anche ruggine e panna Che sono ordinabili Quindi l'ottanio Ruggine e panna Che sono ordinabili E qui invece abbiamo gli altri Ve la faccio rivedere un attimino Perché è troppo carina Guardate che bellina Bella lunghetta Tra l'altro Prezzo Abbiamo detto 19,90 Nessuno mi ha preso la giacchetta Però ragazzi Guardate che questa È sfoderata È morbidissima Quindi Molto molto comoda Soprattutto da adesso Fino a settembre Ottobre Novembre Perché comunque è sfoderata Quindi non è pesantissima Ok Allora Intanto Proseguo Con l'ultimo L'ultimo articolo Di questo outfit Che è Il pantalone Allora il pantalone È la versione Diciamo Tra virgolette Più autunnale Del pantalone Bengalino Vale a dire Un tessuto scuba Stesso taglio Del bengalino Però una versione Di un tessuto Un pochino più Autunnale Chiaramente Non pesantissimo Cioè in realtà Si può utilizzare Sin da ora Insomma Ok Però un po' più Autunnale Allora Il prezzo Che non ci vedo È 18,90€ Le misure sono Di vita Mi parte Da 84 Fino a 150 Sui fianchi Mi parte Da un minimo Di 120 Fino a 160 Abbondanti La lunghezza 100 cm Pensavo di più Guarda quanto Sembra lungo Vabbè 100 cm Colori disponibili Allora I colori disponibili Sono Il ciclamino Questo Gli ultimi colori Sono Il blu scuro Il marrone bruciato Che è talmente scuro Che sembra quasi nero Il nero E l'ultimo colore Che è il color Panna Prima di aprire i pantaloni Mi ridici al volo Le misure Della Della casacca Sì Per Cesarina Allora Fino a 150 Di seno 130 Di fianchi Perché è fatto a pipistrello Lunghezza 65 Davanti 80 Dietro Sto parlando Della casacchina A pipistrello Di poco fa Allora Faccio vedere Il pantalone Aperto Eccolo qui Ma Deborah Non lo so Giudica tu Per me È un pantalone A sigaretta Io lo chiamerei così Poi chiaramente Questo dipende Dandovi le taglie Dipende Dalla vostra Gamba Dalla vostra Gaviglia Dal vostro Colpaccio Però La forma Eccola Sono Panta Palazzo No ragazze Bianca e nera Per Cesarina Rossi Che cosa La casacca No ragazze È semplicemente Un pantalone A sigaretta Avete presente Il modello Bengalino Che abbiamo venduto A quantità Industriali Stesso modello Solo un tessuto Un pochino più autunnale Quello che noi chiamiamo Scuba O jersey Tante volte abbiamo detto Jersey Ok Niente di più E niente di meno Eccolo qua Il prezzo Il prezzo 18,90 Interamente Elasticizzato Tanti colori Disponibili È già aperto Quello con il riccio Maria In che senso Te lo apro Eccolo Eccolo qua Questo è quello Di prima Con i volant Sulle taschine Eccolo per te Livia Il volant È 17,90 Mentre il pezzo Del pantalone A sigaretta 18,90 Allora Palmina Manna Nostra Manna Palminati Io Ormai Con i nomi Comincio A svalvolare Proprio E non è ricordo Sì Sì E chi è? Ottagna Marrone Per Olvia Nico Non ce l'ho Il marrone Allora Palmina Manna Allora Come gliele Devo dare Per lei L'hai trovata? Cazzacca E pantaloni Azzurro Per ungaro Allora L'ottagna Però Dobbiamo Segnare La casacca Ottagno Ok Questa qui A pipistrello Dobbiamo Segnare Ottagno Lei vuole Il completo Per chi? Manna Palmina Non la segno Me la scrivo Ok Pantalone Marrone Per Olvia Invece L'abbiamo Segnato Ok Poi Maria Ungaro L'azzurro Cosa intende Per azzurro Quello Ottagno Che è andato Ah no Intende Questo Maria Ungaro Mi confermi Che tu Intendi Questo Qui Di pantalone Nero Debora Dell'acqua Uno nero Pampalone Ok Eccolo Debora Ciao Giuse Ok Perfetto Maria Ha confermato Allora Mi chiedono Di vedere Un attimo Le corde Che sono Qui dietro Allora Vediamo Se le trovo Eccole Qui Mi chiedono Allora La pichistrella 26 Diciamo Allora Allora Ragazzi Mi chiedono Di vedere Allora In particolare Monica Motti Monica Spero che adesso Sei in linea Allora Le porze nuove Ragazzi Questo è un Tris Costa 24 Euro E 90 Ed è composto Così Da portamonete Un borzello Davanti Che volendo È anche Staccabile E un altro Dietro Guardate Quanto sono Belle Ragazzi Praticamente Sono Tre pezzi Costano 24 E 90 Dentro Sono semplici Eccole Qui Ok La capienza È di una Borza Vi faccio Vedere Più o meno Grosso modo Addosso Eccola Qui Guardate Quanto È Carina Eccola Qui Allora Abbiamo La versione Casanca Coccio Con bottoni Per ovvio Va benissimo È questa Sì Eccola Qui Ovvio Per te Allora La versione Diciamo Questa È un Lilla Anche se È un colore Molto Sembra Quasi Rosa Malva Vero Cipolla Rosa Malva Sì Esatto Infatti Ho detto Lilla Ma in realtà È più Malva Poi la versione Verde Che come vedete Quest'anno ragazzi Il verde Va tantissimo Mi si è Incastrato Tutto Eccola Vabbè Ce la farò Ce la faranno I nostri amici Eccola Verde Poi Katia Scavone C'è un'altra Nera Lì dietro Maire Se la vuoi Prendere Il prezzo 24,90 Ripeto Sono tre pezzi Poi abbiamo La versione Fucsia Ciclamino E naturalmente La versione Nera Ripeto Ragazzi 24,90 Porta Monete Borzello Davanti E secondo Borzello Dietro Ok Molto Molto Carine Allora Aspetto La risposta Di Monica Motti Per sapere Se vuole La fucsia Perché lei Aveva chiesto Di vederle Non so Se è in linea Allora Io intanto Le appoggio Ragazzi 24,90 Ripeto Tre pezzi La borsa È formata Da tre pezzi La ciclamino La nera La verde E La rosa Malva Cipolla Chiamatela Come preferite Ok Allora Intanto Le appoggio Qui dietro E poi Volevano Vedere Un'altra Un'altra Borsa Che era Quella Approfitto Eccola Qua Allora Qui Questa Volta Invece Giro Coscia Non tenere Allora Ragazzi Le frufrue È grandissima Allora Il frufrue L'abbiamo misurato Prima È oltre 70 cm Tirando Arriva A 90 Giro Ok E anche Del pantalone Frufrue Dello scuba Allora Sempre a 24 Color Color Diciamo Tortora Tortora beige Vi faccio Vi faccio vedere Vi faccio vedere L'interno Semplicissimo Allora Davanti abbiamo Una taschina E dentro Abbiamo Tre Scompartimenti Eccoli qua Ok Ripeto Questa è la linea Di Yu Yang Di Enrico Di Enrico Covery Pace pace Sì Non ci riesco Perché poi vado di corsa Mi voglio sbrigare Però Ve le voglio anche far vedere Perché Tra l'altro Meritano E sono molto Molto Carine Io intanto Le appoggio qui E andiamo Avanti Sì Allora Pantalone Nero Su Su Va ordinato Sì Va bene Anita Te lo ordiniamo Non c'è problema Ok Allora Intanto Vado avanti Allora Ragazze Per quanto riguarda Il pantalone Per quanto riguarda Il pantalone A sigaretta Modello Scuba Cioè Tessuto Scuba Abbiamo Il blu scuro Ripeto Il bianco Il panna Il nero Il verde Mela Il ciclamino E il verde Militare Ok Allora Io direi Nel frattempo Di andare avanti Per quanto riguarda Le casacche Aspettate Mi è rimasta La viola La verde E la ciclamino Queste sono quelle Con la bottonatura Dietro la schiena Ok Il prezzo Sempre 19 E 90 Menti Il pantalone Scuba 18 E 90 Pantalone Per me Marrone Grazie Qual è Il marrone Aiutami C'era questo Vero Barbara Mi parli Di questo Pantalone Scuba Giusto Ti ordiniamo Il marrone Vai Questo qui Per Barbara Taglieri Ok Che dici Faccio vedere Un attimo Al volo Questi Che sono carini Aspetta Prendi un colore Che mi si avvice Ragazzi Sono arrivati In dei copri spalle Vi ricordate Noi avevamo la versione Più lunga Molto carini Sono dei modelli elasticizzati Ve li voglio far vedere Il prezzo E 19 90 Le misure Sono da 90 A 130 Di seno Il fianco Chiaramente Non ve lo do Perché non ci arriva La lunghezza 47 Ve lo faccio vedere Io indossato In realtà Va benissimo Sia per una linea Small Sia Ma fa che carino Sia Fino alla taglia Per esempio Della nostra Modella Lisa Che è una 54 Vera Perché l'ha indossato Tranquillamente Perché questo tessuto Diciamo È molto Elasticizzato Così come è anche Elasticizzato Il Le copelle Che troviamo Qui davanti Dietro no Vero Solo nella parte alta Guardate quanto è carino Il prezzo È 19 E 90 Ve lo faccio vedere Indossato Perché almeno si vede Anche meglio La trasparenza Che ha Di questo tulle Elasticizzato Allora I colori disponibili Sono Il nero E cocalle nero Per Antonella Savoia Eccolo Poi Allora Dicevo Il nero Il blu Elettrico Il nude Color carne Mirina lo hai? Sì ce l'ho Eccolo Poi Il verde militare Anche molto carino Giovanna Caruso Lo vuole ordinare Nero Poi abbiamo Poi abbiamo Il rosa La bordo Poveri Tortora Va benissimo Eccola per te Antonella Eccola qua Allora Dicevo Il rosa Ve l'ho fatto vedere E poi In ultimo Anche il bianco E il Celeste Ok Molto Molto carini Ragazze Fabio La rotella Numero Grazie Di che cosa Signora Se intende il nostro numero Ah volevo scrivere Nude Ok va bene Ho scritto numero Dico che numero Gli devo dare Eccolo qua Ok Allora Fabiola Rotella La nostra amica nuova Ok Allora Ragazze Il nero Il nude E Il No no Il nero Il nude Si possono Chiaramente Ordinare Non c'è problema Intanto Mi rimane Da fermo Quanto fa? Da fermo Fa 90 Da 90 A 130 Perché è molto Elasticizzato I fianchi Non ci sono Quindi parliamo Solo della parte Sopra E vi rimane aperto Ragazze È un po' Prispare Un scaldo cuore Da fermo Voi avete una misura Di seno 100 110 Comunque va tenuto Aperto Non è che vi va A stringere Rimane comunque Aperto Esatto Salve Enza Mi fa piacere Che le è piaciuto Allora ragazzi Intanto mi rimane Il blu elettrico Il verde militare Il rosa Poi Il bianco Il celeste Jeans E è andato via Il colore nude Che è il colore neutro E il nero Che può essere ordinato Sì Giovanni L'abbiamo già ordinato Sì Giovanni Tranquilla Ok Allora Io intanto Mi fa piacere Giussi Che ti è arrivato il pacco Benissimo Ok Allora Io direi di andare avanti Se c'è qualcuno Un altro Che vuole aggiungere Qualcosa Di questi articoli Basta che ce lo dice Perché tanto Sono tutti Ordinabili A questo punto Io vado avanti Con L'outfit successivo Allora Proseguiamo Comunque è bellissimo Quello Io mi riprendono Perché A me mi piacciono Cioè Proprio comodi Poi col fatto Che l'assimo Manco Non stringe Non tirano Non si dà neanche fastidio Eh Sì Vero E direlo Sì Allora Allora Ragazze Proseguiamo Con Un altro Outfit Anche questo Molto Molto carino Qui abbiamo Un giacchettino Maxi In cotone Io ho detto Giacchettino Ma guardate Quanto è grande Bellissimo Poi sotto Abbiamo abbinato Una casacca Manica lunga Ma sempre In cotone Garzato E in ultimo Un Leggings Modello Anzi O meglio Tessuto Crespato Quindi sapete Di quei tessuti Leggermente arricciato Borsa Beige Il prezzo Per favore Daniela Ferrera Il prezzo Della borsa Di prima È 24,90 Di Enrico Coveri Allora Andiamo A vedere Le varie cosine I tre pezzi Di questo outfit Allora Partiamo subito Dal Giacchetto Eccolo qui Ripeto È un Giacchetto 100% Cotone Favoloso Leggero Sempre leggermente elasticizzato Le misure Sono 140 Seno E Fianchi Lunghezza 83 davanti 102 Dietro Il prezzo È di 39,90 euro Bellissimo Ragazzi Guardate Molto Molto carino Tra l'altro Questo è un colore Anche nuovo Allora Abbiamo Il color Ecru Il ciclamino Poi Chiaramente Il nero Questo è comodissimo Bello Lungo Largo Comodo Veramente Il marrone Il marrone E poi Gli ultimi Due colori Che sono Il blu scuro E il verde Militare Ok Questi sono Tutti i colori Di questo Maxi Giacchetto Ripeto 140 Seno E fianchi Lunghezza Davanti 83 Dietro 102 Quindi c'è un po' Di differenza Di lunghezza Tra il davanti E il Dietro Ok Perfetto Va benissimo Ragazzi Prendeteli Perché sono comodi Poi andando più avanti I giacchettini così leggeri Non si trovano più Quindi dovete approfittare In questo periodo Perché poi in realtà I giacchetti leggeri Si comincia a portarli ora Fino magari Chissà quando Ha voglia Solidea Lo vuole Beige Eccolo Prezzo del giacchetto 39,90 euro Ragazze Ripeto Approfittate ora Se avete bisogno Di giacchettini Per adesso Per settembre Per ottobre Qui da noi pure novembre Perché in realtà Il freddo arriva Molto in là Quanto hai detto Che fa da fermo Il giacchetto Il giacchetto No è da fermo Fa 140 Ok Fermo 140 seno 140 fianchi Allora Procedo Vado avanti Con La casacchina Che avevamo Abbinato sotto Anche questa casacchina Molto carina Vi faccio notare I particolari Qui sotto abbiamo Una fascetta Con un colore Non colore Chiedo scusa Un tessuto Differente Da quello sopra Guardate Parliamo sempre Di cotone Ma in realtà Una tipologia Leggermente diversa Il prezzo È 19 E 90 Parliamo sempre Già di manica lunga 134 Di seno 132 Di fianchi Lunghezza 70 Ok Ripeto Il prezzo 19 E 90 Anche qui Abbiamo tanti colori Bellissimi Perché è molto Molto carina Questa Casacca Con questa stampa Abbiamo La versione Nera La versione Sabbia Panna Ciclamino Ok Va benissimo Ce l'ho qui Un'altra Eccola qua Allora Dicevo Poi Ciclamino Ottanio Del giacchino Che colori sono rimasti Adesso te lo faccio vedere subito Donatella Allora Ottanio E in ultimo Il verde militare Il blu scuro Il bianco E l'ultimo Colore Che è un marrone Bruciato Fatto tutto E marrone Ok Anche marrone Va bene Fatto Paola Allora I colori Dei giacchetti Che sono rimasti Sono Verde militare Il marrone Il nero E Ciclamino Ciao Saretta Chi è cascato No nessuno La porta La porta che fa rumore Allora Cosa rappresenta Il costo della casa Ah vabbè Avrà scritto male La casacca costa 19,90 Laura Cotone Garzato Elasticizzato È una donna Di schiena Con la coda Ah cosa rappresenta L'immagine Sì È una donna Di spalle Ecco Questo è lo Scignone Vero Sì A parte lo vedo Meglio da là Sì È una donna Che sta di spalle Con i capelli Legati Allora Donatella Ma non è Nostra cliente Donatella Allora Signora Donatella Rosselli Noi possiamo procurarlo Ma lei per acquistare Si deve registrare Al nostro numero Whatsapp Che è questo Che trovo qui dietro Alle mie spalle Il color È cru Quello di prima Color panna Deborah Sì si può richiedere Non c'è problema Anche il blu Per la signora Donatella Però Si deve prima registrare Perché ho notato Che è una nuova amica Confermami Deborah Il pantalone Che ho preso Con il riccio C'è blu Blu scuro Sì Eccolo Maria Maria Ungaro Dimmi se te lo devo aggiungere Al tuo Alle tue cosine Franci Sorcinelli Vuole il giacchetto nero Eccolo Franci Allora Noi l'abbiamo ordinato Per Deborah Dell'Acqua L'abbiamo ordinato Quello color panna E cru Maria conferma Il pantalone Allora Allora Poi Da per l'acqua Me l'ordine Cru Fatto Antonella Savoia La maglia Ciglamino Ok Donatella Perdonami Mi puoi gentilmente Mandare un messaggino Al volo Semplicemente Anche solo Scrivendo Ciao Non riesco a trovare La tua chat Non so se magari Mi è scesa Non capisco Se mi mandi un messaggio Per favore 32 e 39 Grazie Tamara E forse Donatella Se non hai mai Acquistato da noi Poi dopo diverso tempo I nomi vengono cancellati Se non si acquista Poi dopo tanto tempo Vengono cancellati Quindi Donatella Se vuoi acquistare Ci devi inviare Un messaggino Adesso Su Whatsapp Ok E noi ti prenotiamo Il giacchettino blu Allora Ragazzi Vi faccio rivedere Velocemente I colori Della casacca Eccola Mi sa Eccola qui Lei? Si Donatella Rossella Adesso la registro Eh Non ha mai comprato Quindi per quello Lo vuole blu? Si Lo vuole blu Allora ragazzi Io voglio essere onesta E precisare una cosa Un po' per tutte le nuove amiche Eh Noi non accettiamo Il pagamento Alla consegna Per il primo Secondo pacco Fin quando Non ci si conosce Io lo ribadisco Continuamente Durante le dirette Perché è importante Che voi lo sappiate In modo che vi potete Regolare Donatella Tu sei una delle ultime Entrate adesso Confermami Che va bene Il discorso Del pagamento Puoi fare Ricarica post pay Bonifico O paypal Ok? Io te l'ho scritto Anche in privato Però Lo sottolino spesso Questa cosa Perché è importante Che siate al corrente Di tutto Perfetto Donatella Ha già risposto Pronta E velocissima Ha già detto Bonifico Quindi siamo Alla grandissima Allora ragazze Vi faccio rivedere Velocemente I colori Della casacca Così finalmente Passiamo al pantalone Allora Bianco Poi Il color Jeans Il verde Militare L'ottaneo Il panna Il color Sabbia Il nero Andato via Il ciclamino Che è il marrone Scuro Che volendo Sono ordinabili Ok Allora Nel frattempo Invece Andiamo avanti Con il pantalone Allora Come dicevo prima Ragazze Questo abbiamo Il Un pantalone Tessuto Crespato Vedete Mi avvicino Ve lo faccio vedere meglio Prezzo Ottimo Ragazze Sottolineo Ottimo Parliamo Di 11 Euro E 90 Leggings Che mi parte Da 90 cm Di girovita Fino a 180 Sui fianchi Partiamo Da un minimo Di 120 E li superiamo I 180 Di poco Ma li superiamo Lunghezza 102 Ripeto Solo 11 Euro E 90 Tessuto Crespato Colori Disponibili Verde Militare Chiaramente Il tessuto Rimane sempre Un pochino Autunnale Il ciclamino Il bianco Anche Ecco Guardate Vi avvicino Il bianco Così vedete Ancora meglio Il tessuto Ma credo che ormai Avete Abbiate capito Insomma Com'è Poi Abbiamo Il Panna Il Nero E Il Blu Scuro Ok Questi Sono tutti I colori Disponibili In questo Leggings Ripeto Ragazzi Solo 11 Euro E 90 Modello Leggings Di vita Da 90 A 180 Fianchi Da 120 Oltre Fino a oltre 180 Lunghezza 102 Prezzo Veramente Ragazzi 11 Euro E 90 Prezzo Regalo Ok Pantalone Elasticizzato Comodissimo Veramente Prezzo Ottimo Verde Militare Ciglamino Bianco Blu Scuro Panna E Nero Allora Bianco Per Barbara Taglieri Eccolo Ciao Grazie Buon Pomeriggio Grazie Stiamo Presentando I pantaloni Crespati A 11 Euro E 90 Eccoli E qua Vi faccio Rivedere Nei vari Colori Fino A 180 Di vita Oltre 180 Sui Fianchi Lunghezza 102 Grazie Verde militare Ti do Ti do Che qui C'ho Il Il Fogliettino Allora Verde militare Ciglamino Blu Scuro Panna E Nero Patrizia 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 Contiero Il giacchetto Nero Certo Anche il nero Per Ciottino Allora Patrizia Contiero Vuole il giacchetto Di prima Nero Allora Grazie Le misure Del pantalone Di vita Sono Da 90 A 180 Sui Fianchi Da 120 Superano Di poco I 180 Lunghezza 102 Carla Piera Nero E Panna Va benissimo Eccoli Ce l'ho Pronti Grazie Carla Ecco Di qua Motti Monica Silvia Scusa Mi sono persa La presentazione Della borsa Che ti avevo Chiesto Posso Rivederla Nero Per Di Domenico Di Domenica Antonio Anita Doro Blu scuro Allora Quindi Il nero Me lo devi ordinare Perché li ho finiti Il blu scuro Per Anita Ce l'ho Per Ivana Dobbiamo ordinarlo Il nero Grazie A scertino Il pantalone Verde Mela Eccolo Per te Grazie Oddio Donna Pensavo L'avrei preso Ok Allora Ragazzi Qui vi rimane Verde militare Il fucsia Il blu Il panna E' ordinabile Il nero Il bianco Il nero e il bianco Panna Il bianco Eh no Solo quello Manca Allora Franca in grammi Lo vuole verde E dobbiamo ordinarlo Verde anche per Rosalba Rossi Verde militare Naturalmente Allora Si è registrata Daniela Ferrera Anche in grammi Anche nero Va benissimo Quindi dobbiamo Aggiungerlo Sempre nelle prenotazioni Stiamo prendendo Le prenotazioni Intanto qui E' rimasto Panna Blu E ciclamino Rita Francucci Nero E blu elettrico Ah il bengalino Però Ok Il bengalino Eccolo qua giù Nero Oddio il nero Dobbiamo ordinarlo Ragazze Perché l'ho finito Eccolo con tre bottoni Tre bottoni Sì È blu scuro Sì Fatto Rita Ti abbiamo ordinato Il nero Il blu elettrico Ce l'avevamo già Allora Carla Piera dice Che colori sono rimasti I casacchi con le farfalle Te lo dico subito Con le farfalle Dove si accunti? Eccole qua Allora Con le farfalle Eccole qui Allora Color coccio Nero Poi Ottagno Verde militare Ciclamino E la miseria Che mi cadono sempre Con i ventilatori E il blu scuro Ecco qui tutti i colori Carla Fammi sapere se ne vuoi uno Ripeto Coccio Nero Ottagno Verde militare Ciclamino E blu scuro Il prezzo Te lo confermo Che era di 19,90 La casacca con la farfalle Blu scuro E farfalla Ok E gallini Laura Ah gallini Laura Pensavo che era Mi sfugge Vabbè Carla Piera Ok Coccio e ciclamino De spocchi Coccio E ciclamino Per fatti Per Piera E troppa Poi le misture Del viso Del viso Della casacchina Deborah Dallà Paola D'Amico Nera casacca farfalle Nera Ok Va benissimo Fatto Ok Avete altro voi Scusa Silvia Vi ho visto un po' di tempo Non ho questo Mi hai ancora in rubrica Oppure No Deborah Addirittura Non è che se non comprate Per un mese Due Vi elimino Non so Così cattiva Un po' sì Ma non così tanto Misure della casacca farfalla Allora Vi do Prima le misure Della casacca farfalla Che sono 170 di seno Oltre 180 fianchi Lunghezza 78 Questa è molto comoda Molto abbondante Ciao C'era chi anche chiedeva Le misure di quella Con la donna 134 di seno E di fianchi Lunghezza 70 Anche questa 19,90 Come quella Con la farfalla Allora I giubbini lunghi Eccoli qui Verde militare Marrone E ciclamino Disponibile anche Blu scuro Nero Color panna E cru Poi nero Ok Questi cinque colori Il 39,90 140 di seno E di fianchi La lunghezza Eccola qui Vedete Bello ampio Ripeto Seno e fianchi 140 Lunghezza davanti 83 102 Dietro Il tessuto È un bel Cotone Molto bello Ci sono giubbini Senza cappuccio Marilena Non ti so dire Guarda Andiamo avanti E vediamo Perché è arrivata Talmente tanta merce Nuova questa settimana Che abbiamo perso Il filo anche noi Veramente Guarda Allora Paola Che ti riferisci Alla casa Antonella Vuole la polizetta Ma è questa Guarda Faccio Il telefono È questa Ok Antonella Savoia Ok Allora Posso andare avanti Ci sono altre Prendo azioni No Ok Allora Ragazzi vi faccio Rivedere al volo Eccoli qui I colori Della casacca Con la donna Di schiena Di spalle Eccoli qua Ok Poi per qualsiasi cosa Se volete Rivedere i colori Me lo dite E ve li faccio Rivedere tranquillamente Allora Andiamo avanti Con un altro Outfit Questa volta Andiamo su una cosa Un po' più leggerina Un po' più estiva Per chi Vuole ancora Qualcosa di più Diciamo Leggero Allora ragazzi Questa è la casacchina Che io in realtà Indossavo La scorsa settimana Modello a barchetta Comodissima Non è per nulla Piccina Nonostante sembra Ma non lo è E Gonnellina Abbinato Tutto in tessuto Di viscosa Fai la tragolla Fucsia Alla ragazza Che te l'aveva chiesta Perché non era in linea Che qual'era? Era quella di Motti Monica Ah Un attimino Nicoletta Perché me l'ha chiesta Su whatsapp E gliel'ho fatta vedere Però ragazzi Io non posso far rivedere Sempre le stesse cose Ogni due minuti Datemi cinque minuti E appena Gliele faccio rivedere Ok? Gliel'avevo anche scritto Per avvisarla Ragazzi Io sono una Non posso fare i miracoli Se no riguarda Il pezzetto della diretta Così può rivederle Tanto sono anche ordinabili Allora Dicevo ragazzi Quindi questo completo carissimo Partiamo dalla casacchina Allora La casacca Costa soltanto Quattordici euro e novanta Ripeto Questa la indossavo io Dovevo metterla Ma non mi sono dimenticata Sinceramente Vabbè Pazienza Allora Seno Da 90 a 126 Fianchi invece Da 126 A 136 Lunghezza 62 Chiaramente Tirata su Sulla stampella Se voi la portate Giù a barchetta Come la indosso io Che c'ho sempre caldo Allora Chiaramente Come se fosse Più di 70 La lunghezza Ok Il prezzo Ripeto 14 euro E 90 Sono tanti colori Disponibili A partire dal ciclamino Il bianco Poi il color salmone Il rosa antico Il verde pistacchio Il tiffani Il marrone Io per esempio Ci sono due o tre colori Perché sono comodissime Il bordeaux E l'ultimo colore Il nero Ok Prezzo Ripeto 14,90 Questo Diciamo In sconto Perché in realtà Il costo originale Sarebbe 19,90 Ultimi colori Eccoli qua Quindi Ripeto Fino a 126 Il seno Fino a 136 I fianchi La lunghezza 62 Senza tirare giù Se tirate giù Chiaramente Ovviamente È più Più lunghetta Insomma Ah ok Allora Antonella Savoia Salmone per Lidia Friggiotti Antonella Savoia Vuole evitare quella lì Bece Questa Sì Rimane solo con quella Sì Allora Aspettate che arrivo Subito Ok Allora Ragazzi Vi lascio qui I colori Quindi Nero Bordò Marrone Tiffani Verde Pistacchio Rosa Bianco E Cilamina Allora Se mi daresti La maglia Marrone Rosa Con la Gona Se c'è Marrone Allora Rosa Il marrone Intanto Ecco qui La maglia Poi La gonnellina Vado subito A presentarla E c'è Marrone Tanto è ordinabile Eccola qui Per Sabrina Questa è la versione Marrone E vado con A presentarvi La La gonnellina Allora Una gonnellina Valze Costa 15 euro e 90 Comodissima Di vita Mi parte Da 60 Fino a circa 114 116 Sui fianchi Mi parte Da 120 A 160 Lunghezza 46 Non è molto corta Allora Neri Come colori Il marrone Che è andato via Poi Il Il Lottanio Il Rosso Color Jeans E in ultimo Il Ciclamino E Il Bordeaux Ok Ragazzi 15 euro e 90 Questa gonnellina Valze Stupenda Ne ho due È vero Bombina Molto Molto La terra Quello per terra Intendi Questo modello Non è proprio Beggio Però Quello Allora Paola Se mi parli Di questo Se è giusto Il modello Questo è un rosa Antico Come vedete Come vedete Con il cuoio Allora Rosa Nera E Lilla Bellissimo Che bella che è questa Pure rosa Allora Il prezzo È 19,90 Naturalmente All'interno C'è la tracollina Lunga Mi fai Rivedere i colori Delle casacche Sì Barbara Arrivo subito Paola Dimmi se c'è una Di queste Che volevi E soprattutto Se è giusto Il modello Che non so Se era quello Che intendemi Ma penso Di sì Allora I colori Della casacca Eccoli qua Allora Nera Bordeaux Debora dell'acqua La borsa nera Sì Nera e cuoio Fatto Debora Allora Bordeaux Tiffany Pistacchio Bianca E ciclamino Eh ma guarda Paola Che è un rosa Particolare Nel senso Che È molto Carino Sai Non so se è Un colore Che ti piace Però Facile da abbinare Pure quel colore Perché Sembra quasi Un nude Una cosa Molto Molto Neutra Ok Allora Se non ci sono Altre presentazioni Io intanto Vado avanti Con Un altro Outfit Che ne abbiamo Ancora tantissimi Allora Eccoci qua Primo Giacchettino Di jeans Ve lo Ve lo abbiamo Ve lo stiamo Presentando Con Una casacchina Sotto Vedete Molto Molto Carina Manica lunga In licra Elasticizzata Abbinata Ad un 5 Tasche Un pantalone Jeans Modello Skinny Questo Attenzione Perché va A taglie Adesso Chiaramente Vi presento Un po' Tutto Tutti I dettagli Di Di questi Di questo Outfit Partiamo Dal Giacchetto Partiamo Dal Giacchetto Allora Il giacchetto Mi parte Da una 48 Ripeto Va a taglie Fino Alla taglia 60 È un Jeans Elasticizzato Sì In magazzino È un Jeans Elasticizzato Sbaglio C'era anche Il marrone Sì Barbara Ma è Terminato Quindi Questo È un Articolo Che Non Posso Riordinare Allora Dicevo Jeans Elasticizzato Il prezzo È di 34 Euro E 90 La Prima Misura È una Taglia 48 L'ultima Misura È una 60 Ok Jeans Giacchetto Di Jeans Prezzo 34 E 90 Non Vi posso Dare Le misure Perché Ripeto Va a taglie Poi Andiamo Invece Sulla Sulla Casacchina Che è sotto Ma questa È quella Che ho io In pratica Però è un po' Più grande Mi sa Perché sento Un tessuto Differente Sì Quello è il modello Grande Ma noi abbiamo Anche La mia Ok Allora Questo è il modello Che indosso Io Però Leggermente Più Comodo Ok Non enorme Però un po' Più comodo Allora Le misure Di seno Sono Da 100 A 140 Sui fianchi Invece Arriviamo a circa 136 138 Lunghezza 65 Il prezzo Il prezzo Ma è questa che fa casino È di 19,90 euro Casacca gattini Ma che casacca gattini Sto vedendo la rivetta di ieri Eh mi sa eh Va Va beh Allora Per quanto riguarda i colori Ne abbiamo Cinque Allora La prima È La numero uno Sui toni del nero Marrone Eccetera Numero due Quindi questa è una Una vestibilità Diciamo un po' Una via di mezzo La numero tre La numero quattro E la numero cinque Molto molto carina ragazze Con questo nodino laterale Ripeto le misure Da 100 A 140 Di seno Sui fianchi Fino a 136 138 Lunghezza 65 Tre per grazia Eccolo per te Grazia Filomena Marletta Uno Filomena Ma a te non ti va questa Ti rimane aderente Sei sicura? Filomena Io te lo chiedo sempre Perché tu Purtroppo Spesso Dopo ci ripensi Mi dici No ma è piccolina Sei sicura Che la vuoi la uno? Io ripeto Parte da 100 centimetri Fino a 140 Se è per te Ti rimane molto aderente Confermami Però poi non voglio Che ci ripensi Allora Dice 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 Sì Sì la prendo Vabbè Ok Mi raccomando Filomena Allora Questo invece È per Caterina Lusso Che lo deve cambiare Con quello che ha preso ieri Che si è sbagliata Pensava che fosse questo Allora Non sia la numero uno È andata via Mi dispiace C'è la numero due La numero quattro E la numero cinque La uno non c'è più Ragazze Ok Allora Intanto proseguo Vado avanti Con Il Allora Vabbè Il pantalone Allora Il pantalone Anche faccio velocissima Perché Perché il pantalone È un cinque tasche Sempre in jeans Elasticizzato Va anche questo A taglie Qui partiamo Dalla taglia 46 Fino alla taglia 52 54 Silvia scusa Giubbino jeans Taglie giusto Mi potresti dire Misura 52 Monica È un tessuto elasticizzato Non mi metto in diretta A dire le taglie Le misure Per ogni taglia Se vuoi magari In privato Però la 52 Veste 52 Insomma E poi il tessuto Ripeto È elastico È un jeans elasticizzato Non un tessuto fermo Ok Allora Per quanto riguarda Il jeans Il pantalone jeans Cinque tasche Il prezzo È di 39 Euro E 90 Ripeto Dalla taglia 46 Fino alla taglia 52 54 Anche questo Ripeto Va a taglie Ok E anche qui Abbiamo Un tessuto Elasticizzato Ok Allora Intanto Andiamo avanti Facciamo vedere Dai che sono già le 6 Io ho ancora 200.000 outfit Da far vedere Allora Vado avanti Con Un Un abito In Discosa Ragazzi Questo è carinissimo Ce l'ho Anch'io Veste Benissimo E Veramente Basta Sopramettere Un bel Giacchettino Adesso vi faccio vedere Anche un abbinamento Molto carino Si bombina Allora Vedete ragazze Guardate che abbinamento Carinissimo Mettete sopra Uno scaldacuore Di filo Leggero Tanto per coprire Le spalle E subito Sotto Questo abito Comodissimo Bellissimo In viscosa Elasticizzata Allora Partendo Dallo Scaldacuore Che è di filo Ripeto Il costo È di 14,90 euro E abbiamo Tanti colori Nuovi Disponibili Bellissimi Le misure Sono da 100 A 140 Sia seno I fianchi Diciamo no Ragazze Perché comunque Rimane al di sopra Lunghezza 60 cm Adesso vi faccio vedere Tutti i colori Invece Per quanto riguarda L'abito elasticizzato Dove abbiamo un colpino Con tutto bello Elastico Vi dico subito Le misure Arriviamo a 126 Di seno Oltre Anzi Per la precisione Da 70 A 126 Fianchi Da 160 A oltre 180 Lunghezza 135 Il prezzo È di 19,90 euro Ragazze Questo è un articolo Tra virgolette In sconto Nel senso Abbiamo fatto uno sconto Anche se poi È arrivato Lunedì Allora Vestito coccio Per Regina Magurano Eccolo Allora Linda Mcclana Ciao Linda Il marrone Del giacchetto Eccolo qua Eccolo per te Luigina E scusami Luigina Voglio dire Linda Magurano anche nero Anche nero Benissimo Eccolo nero Peccato Perché questo è proprio carino Carino Questo abito E poi veste molto Molto bene Veramente Io sto litigando Con la collana Allora Vi faccio vedere I colori Dell'abito Ripeto In saldo Ragazzi 19 e 90 126 Seno 100 Più di 180 Fianti Lunghezza 135 Nero Per rosalba Rossi Allora Ho anche questo Splendido Verde Smeraldo Bellissimo Pure Ottagno Carta da zucchero Ottagno Vero Che bello Pure questa tonalità Ottagno Poi Abbiamo Il mio colore preferito Il ciclamino Eccolo qui E in ultimo Il Verde militare E il blu Elettrico Sono uno Più bello Dell'altro Veramente E hanno una vestibilità Favolosa Allora Beh 126 128 Seno E il seno Sui fianchi Invece È grandissimo Quindi non c'è problema Ok Allora Poi Volevo un attimino Presentarvi Il Giacchettino Lo Scaldacuore Di filo Che stavamo Vedendo Poco fa Ripeto Questo Le misure Sono indicative Perché la lunghezza È 60 cm I fianchi Qui Diciamo Non ci sono Il tessuto È di filo Bello Leggero Leggero Prezzo 14,90 Per quanto riguarda Invece Il seno Partiamo Da un minimo Di 100 Fino A 140 Perché è molto elasticizzato Leggerino Elasticizzato Colori Disponibili Ciglamino Il nero Poi Il blu scuro Il bianco Il color Coccio Fucsia Ciglamino Ok Grazie Dicevo Fucsia Verde Bottiglia Anche Ottanio Per Grazia Eccolo Poi Verde Militare Viola Coccio Per Rosalba Rossi Laura Giusti Blu Scuro Sì Adesso Marilena Ti faccio Rivedere I colori Dell'abito Solo Un attimino Allora Verde Militare Viola Verde Bottiglia Fucsia Bianco Bianco Nero Ecco i colori Rimasti Il prezzo 14,90 Poi Ritornando ai colori Dell'abito Mi chiedevate di rivederlo Abbiamo Il verde Smeraldo Verde Bottiglia Bellissimo Che si abbina benissimo Anche al coprispalle Poi L'Ottanio Ciglamino Verde Militare E blu E blu Elettrico Katia Lusso Di filo Bianco Eccolo Il coprispalle Vestiti Verdi E carta Da zucchero Paola Villa Fammi sapere Se vuoi Se ne vuoi uno Di questi Che mi hai chiesto Vediamo un attimo Perché mi sta scrivendo Su whatsapp Vediamo un secondo Intanto che approfitto Del berengocino D'acqua Barbara De Angelis Ciglamino Eccolo per te Barbara L'abito Giusto Marilena Calmarana Vuole verde Bottiglia Verde militare Per Olvi Amico Paola Il verde E' andato via Perché me l'hanno scritto Su Su facebook Mentre tu Aspettavi Se vuoi Ti posso dare L'Ottanio Il carta da zucchero Come l'hai chiamato tu Paola Mi spiace però Io Chiaramente Chi prenota prima Gli devo dare l'articolo Barbara Dice No Giacchetto Il Giacchetto Ciglamino Non c'è Allora Barbara Meritammelo E' andato via C'è Fucsia Se vuoi Fucsia Nero Verde Bottiglia Viola E verde militare Barbara Dimmi se vuoi Un altro colore Allora Il Fucsia C'è Il Ciglamino E' andato via Allora Paola dice Che prende Il carta da zucchero Perfetto Grazie Paola Villa Ce l'ho su whatsapp Allora Intanto Ok Benissimo Eh Barbara L'hanno preso Già molto Eh già Sono parecchi Minuti Che è andato via Allora Allora Verde militare Andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti Con un altro Articolo Allora Allora Bisset Un momentino La prima La prima è andata via Che è stata Giovanna La più veloce E poi Pantalone Bengalino Con i brillantini Sotto Adesso vado A farvi vedere Allora 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 Le misure Della Ciao Monica Le misure Della casacchina Sono 120 140 Seno Fianchi 130 Eh Fino a 144 146 Lunghezza 63 Allora Come colori Abbiamo L'ottanio Il panna Due pezzi Neri E l'ultimo Viola Ripeto Questo è un articolo Che pur essendo Nuovo In realtà È già In sconto A 14 Euro e 90 Molto Molto Carino Il primo colore È già andato via Quello che avevo in mano Adesso abbiamo L'ottanio Il panno Due pezzi neri E uno Con il Viola Ditemi ragazze Volevate tutto Il primo colore Ma questi sono Ancora Più belli Belli anche Questi Inoltre Inoltre Non ho finito Di dirvi C'è anche La versione Tinta unita Sempre scontata A 14 E 90 Ruggine Nera Bianca Beige E verde E verde E verde Allora Eccolo per te Filomena Allora Aspettiamo un attimino Ragazzi ripeto Con i fiorellini Allora Ottanio Nera E il viorellini E il viorellini Il viorellini Sconto Sconto Allora Il viola Varro Salva Rossi Articolo In sconto A 14 E 90 140 Di seno La massima Estensione 144 Sui fianchi 144 146 Lunghezza 63 Nera Per Laura Giussi Laura Con i fiorellini O a tinta unita Però specificate Ragazzi Perché Il nero c'è Sia con i fiorellini Sia tinta unita Quindi Laura Mi dai conferma Di quale vuoi Anche velocemente Perché magari Se poi mi chiedono Quella tinta unita Non so se la posso Dar via O meno Allora Con i fiorellini Perfetto Grazie Laura Ottanio Per Barbara De Angelis Allora L'ultimo pezzo Nera Con i fiorellini Ok L'ultima Nera Con i fiorellini E poi Le tinte unite Ruggine Nera Bianca Beige E verde Nera tinta unita Per Cagia Marchese Eccola Eccola Ultimi Cinque pezzi 14 euro E 90 Allora Intanto io Vado avanti con Il bengalino Allora ragazzi Questo è l'altro modello Che noi abbiamo Questa volta Con il brillantino Sotto Eccolo qua 90 140 di vita Fianchi da 110 120 Circa Fino Fino a Oltre 160 Lunghezza 98 Prezzo Anche qui 15 euro E 90 Colori disponibili Questi Siamo proprio Agli sgoccioli Questo modello E' quasi finito Verde Mela Nero Bianco E Panna Ok Sempre 15 e 90 Come quello che abbiamo visto All'inizio Della diretta Che si differenzia Per Quei due Brillantini Alla fine Del Pantalone Vediamo un attimino Se c'è qualche altra Prenotazione Altrimenti Vado Avanti Ok Nessuno Sta scrivendo Nulla Allora Arrivo a questo punto Vado Avanti Con L'altro Outfit Ragazzi Andiamo avanti Con un altro Outfit Questa volta Abbiamo Un Blazer Tinta Tinta unita Ho già preso io Blazer Tinta unita Sempre in tessuto Scuba O jersey Come preferite dire Abbiamo abbinato La mia Casacchina Quella che indosso Proprio io Che è un tessuto Comunque elasticizzato E In Abbinamento Abbiamo messo Questo pantalone Palazzo Meraviglioso Dove all'interno Questo pantalone Ha tutti dei fili Intrecciati In lurex Ve lo faccio vedere Da vicino Chiaramente Andiamo già Su un tessuto Autunnale Chiaramente Non è Stato all'interno Però comunque È un tessuto Più pesante Rispetto a quelli Che abbiamo visto Finora Estivi Allora Andiamo Con la Giacchetta Con la giacchettina Con il blazer Allora Il blazer Mi fa Innanzitutto Vi faccio notare Che Il taglio Che abbiamo Qui davanti Vedete Non abbiamo Il colletto Ma abbiamo Questo taglio Così Molto carino È leggermente Avvitata Non è una Vestibilità enorme Perché partiamo Da 100 Sia di seno Sia di fianchi E arriviamo Intorno ai 140 Grosso modo Come misura Chiaramente Il tessuto È morbido Elasticizzato È sempre sfoderato All'interno La lunghezza È di 72 Giaggia Bardellini Pantalone Verde Nella Con brillantini Va benissimo Giaggia Eccolo per te Giaggia Allora Dicevo Quindi Il blazer Fino a circa Più o meno 140 Abbondante Diciamo così Perché poi Ragazzi Quello che vi voglio Far notare È il fatto Che questi Tessuti Sono sempre Molto Elastici Grazie Ma Irene Che sa Tu Allora La lunghezza Dicevo 72 Il prezzo È di 17 Euro E 90 I colori Disponibili Sono 80 Chiaramente Il nero Che l'abbiamo Già visto Poco fa Poi Il ciclamino Eccolo Il sabbia Il panna E il blu scuro Ciao Oriana Ok Allora Signora Grazia Per acquistare In diretta Si deve Registrare Mandando un messaggino Su whatsapp Schrivendo Il suo nome E cognome Il numero Eccolo qui Dietro Alle nostre spalle La spedizione È gratuita Al di sopra Dei 50 euro Al di sotto Dei 50 euro Chiediamo un piccolo Contributo Spese E non accettiamo Il pagamento Alla consegna Come primo ordine Primo secondo ordine Poi una volta Che ci conosciamo Si può effettuare Anche il pagamento Alla consegna Ok Allora Ragazzi Quindi il blazer 17 euro e 90 Abbiamo detto Sei colori disponibili Ripeto Ottano Nero Ciclamino Sappia Panna E blu scuro Proseguiamo Proseguiamo Con La casacchina Che è quella Che indosso io Quindi un po' Una via di mezzo Tra una small E una curvy Quindi Un qualcosa Di comunque Accostato Di aderente Il prezzo Della casacchina È 17 e 90 Mentre il prezzo Della collana Arancio È in sconto A 50% A 9 euro E 90 E vi do le misure Della casacchina Allora Le misure Sono Da 100 A circa 140 Si può estendere Quindi la vestibilità È buona Chiaramente Ripeto È sempre un qualcosa Che va aderente Sui fianchi Partiamo Da circa 96 A 120 Lunghezza 58 Allora Barbara La collana Eccola per te Barbara La collana Arancio Allora I colori disponibili Per quanto riguarda Una casacchina Sono 5 Vale a dire Il nero Il color ruggine L'ottanio Il verde E l'ultimo colore Che è quello Che indosso io Il viola Il prezzo Abbiamo detto 17,90 euro Allora Nell'outfit Qui sotto Abbiamo Abbinato Questo pantalone Meraviglioso Ragazzi Questo è veramente Molto Molto Bello Lo faccio vedere Più da vicino Perché vi voglio Far capire Il Il tessuto Con Taschine Questo tessuto Bello Perché è intrecciato Da fili di lurex Quindi rimane Un po' lucido Fabiola Rotella La viola Eccola Fatto Fabiola I colori Disponibili Di questo pantalone Sono soltanto Due La versione Chiara E la versione Nera Sembra Un pantalone Pesantissimo Ma in realtà Non lo è Infatti All'interno È leggero È sfoderato Non è Non è Felpato Ok Vado con le misure Allora Prima di tutto Il prezzo Il prezzo È di 24 euro E 90 E la collana Che indossi C'è? La mia collana Non lo so Se c'è Oddio Qua non la vedo Stesso colore No Non sa che Allora La mia collana C'è in rosa E basta Ok La mia collana È da ordinare Fabiola Costa 14 euro E 90 Perché c'è solo La versione rosa Antico Eccola qui La versione rosa Antico Però la versione Che ho io Che ha lo stesso prezzo È da ordinare Se vuoi Se vuoi te la possiamo ordinare Non c'è problema Allora Dicevo Il pantalone Quindi due colori Prezzo 24 e 90 Misure Da 70 Fino a 150 Giro vita Fianchi Da 130 Circa 164 Lunghezza 105 Fabiola dice sì Quindi vuole che gliela ordiniamo Ok Va benissimo Fabiola Non c'è problema Ok Allora Dicevo Pantalone Quindi due versioni Soltanto Versione chiara E versione scura Perché Vogliamo le manco De questi Se va qua Gendo più Lo lascio qua Eh forse No più che perdono Eh Quando mi richiedono Poi Eccola Eh sì Almeno mi libero Un pochettino Eh Pantalone Palazzo Scuro Per lina di pola Fatto lina Ragazze Sono bellissimi Sono molto più belli Dal vivo Che Eh A vederli così In video Allora Sì Scusami Ripeti la vita Certo Monica Allora Il giro vita Parte da 70 cm Fino a 150 cm Sui fianchi Parte da 130 cm Perché vedete È a palazzo Fino a 164 cm Ok Fammi sapere Monica Se ne vuoi un paio Intanto Vado avanti Con un altro outfit Allora Scuro per Monica Lo prendi tu Scuro no? Ok Monica Te lo diamo scuro Non c'è problema Ok Allora Ragazzi Altro giro Di outfit Questa volta Abbiamo una cosa Un pochino più Eh Come dire Un po' più giornaliera Per me chiaro Adriana Bacci Va benissimo Ragazzi Se c'è qualche Un altro Che lo vuole Si può Ordinare Non c'è problema Ok Allora Dicevo Quindi Outfit Composto da Spolverino Cardigan Anzi Con Taschine Sempre di filo Quindi adatto A questo Periodo Abbiamo abbinato Sotto Una camicola In raso Con Il nostro Pantalone Che per noi È un cavallo Di battaglia Abbiamo tantissimi Colori nuovi Eccetera In viscosa Eh Elasticizzato Ok Ora vi faccio vedere Un po' tutta La cosina Allora Partiamo subito Dal Cardigan Che in questo periodo Ne abbiamo bisogno Si comincia con le serate Le mattinate fresche Allora Cardigan Il costo È di 19 euro E 90 Come vedete Abbiamo le taschine Molto molto carino Una Diciamo Come posso dire Un articolo di mezza stagione Perché comunque parliamo ancora di filo Poi più avanti arriveranno addirittura anche di lana Il seno e i fianchi mi partono da un minimo di 130 E mi arrivano tirando Perché è morbidissimo Fino a 180 La lunghezza è 80 centimetri Chiaramente anche di questo articolo Sono arrivati tanti colori nuovi Abbiamo il ciclanino Abbiamo il verde pistacchio Il lilla Tanto questi ragazzi Più ne avete E più li utilizzate Perché sono favolosi Ottanio Panna E in ultimo Color coccio Nero E verde militare Questi sono utilissimi Per la mezza stagione Levate e mettete A seconda Se fa caldo Freddo Veramente Comodi 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 Hanno anche le taschine Di filo Ripeto una cosina Pratica Comoda Un po' per Liero per Linda Ok Eccolo per te Linda Ragazzi prendete anche i colorati Sono molto molto carini Sono dei colori belli Perché poi questo Filo sembra anche leggerino Tra l'altro Allora Ripeto Ciclamino Verde pistacchio Lilla Ottanio Panna Sardina la marca Ciclamino Ok Coccio E verde militare Bellissimo Bellissimo Confermami se era questa Da 17,90 Penso di sì Ma dammi conferma Allora dicevo Camicia scontata In raso Abbiamo pochissimi pezzi Eccoli qui Le misure Scontate a 14,90 euro Le misure sono Da 130 di seno A 150 Sui fianchi Da 144 A 156 Lunghezza 83 Ripeto Questo è un articolo In saldo A 14,90 euro Bianca Ne ho solo un pezzo Due nere Anzi una perché Una va a Francis Orcinelli E una a Linda McLaren Palmina ha confermato Allora Le nere sono finite Adesso abbiamo Solo questi colori Bianca Blu elettrico Viola Bianca perlina di cora Allora Dicevo Blu elettrico Viola Champagne Beige Chiamatela come preferite Verde militare E Bordeaux pure Molto belli Chiaramente sono tutti colori nuovi Abbiamo deciso di fare un po' di sconticino Ma sono tutti colori Nuovissimi Allora Per chi ha perso le misure 150 di seno 156 di fianchi Lunghezza 83 Ok 5 colori rimasti Ripeto Blu elettrico Bio Champagne Verde militare E Bordeaux Rosso Bordeaux Eccoli qua Li faccio rivedere 14,90 In sconto Fianchi a tessuto fermo 144 Silvietta Blu elettrico Viola Li faccio rivedere un secondo E poi vado avanti Champagne Verde militare E Bordeaux 5 colori Allora Nel frattempo Vado avanti Allora Proseguo con Il pantalone Eccolo qui Allora Questo è un pantalone È un pantalone Strepitoso Favoloso Veramente Uno dei più venduti Continuativo Nel senso Katia Martini Si Bordeaux Nel senso che non ha stagione Questo pantalone È un tessuto di viscosa elasticizzato Che veramente viene utilizzato sia d'inverno che d'estate Il prezzo è di 19,90 E sono arrivati tanti colori nuovi Le misure vi do prima di tutto Di vita da 80 a 150 Fianchi da 120 a 170 abbondanti Lunghezza 100 Senza il risvoltino Ok Colori disponibili Il verde petrolio Che è uno dei colori nuovi Chiaramente il nero Non manca mai Poi Color coccio L'effetto jeans Il blu scuro Petrolio per Katia Slavone Ok Fatto Katia Dicevo Il blu scuro Anche jeans Anche jeans Ok Eccolo per te Katia Poi Il rosso acceso Il bordeaux Il bordeaux Patrizia Contiero Il cardigan Il pantalone nero Va benissimo Il cardigan nero lo dobbiamo ordinare qui Eccolo qui il pantalone Aspetta che mi sono intrecciata con la collana Ok Allora Dicevo quindi rosso acceso Bordeaux Bordeaux Poi blu elettrico E verde militare Verde petrolio se si può ordinare Erika ci proviamo Penso di sì Però se dovesse mancare come colore Te lo faccio sapere naturalmente Rosso per Adriana Bacci Allora Erika Sintoni Quindi verde petrolio Il pantalone Allora E' andato via Il verde petrolio Il rosso L'effetto jeans E il nero Proviamo a prendere gli ordini Non c'è problema Intanto qui Abbiamo il verde militare Il blu elettrico Il rosso bordeaux Il blu scuro E il color coccio Ok Questo è un pantalone Che si aggiorna continuamente Arriveranno sicuramente anche altri colori Tanto ogni tanto esce qualche colore nuovo E noi lo facciamo vedere Perché è veramente comodissimo Ripeto Il prezzo è 19,90 Le misure da 80 a 150 di vita Sui fianchi partiamo da un minimo di 120 E arriviamo anche oltre i 170 La lunghezza del pantalone è 100 100 Chiaramente sciogliendo il risvoltino che vedete sotto Ok E ve li lascio qui Silvia Mi fai vedere Ah beh mi ero scollegata Silvia Il cardigan sono quelli nostri Di filo Con la taschina A 19,90 Verde pistacchio Verde militare Color coccio Color coccio Il nero è da ordinare E poi il villa L'ottanio E il panna Marilena Gotti vuole il pantalone effetto jeans Va bene Va bene Marilena Ti prendiamo il tuo ordine Allora Vediamo un attimino Ok Ok vado avanti Se non ci sono altre penetrazioni Proseguiamo con un altro outfit Allora Allora Andiamo avanti con invece con un altro completo Questa volta composto da Maxi Casacca Con pantalone Un altro tessuto simile al bengalino Parliamo sempre di una viscosa Però un pochino più consistente Un pochino più autunnale Con l'accettino in vita Silvia per favore La bolza nera a tre pezzi La prendo se posso Sì certo Lina Ecco la qui Fatolina Eccola Ok Allora Dicevo Quindi Abbiamo La casacchina Al prezzo di 24 euro e 90 Il pantalone Al prezzo di 17 euro e 90 Vado a presentarvi prima La Maxi Casacca Allora Ripeto 24 e 90 Misure Sero Da 120 A 150 Fianchi invece Partono da un 114 A 136 Lunghezza 88 Ragazzi Questa è piuttosto lunga Direi che oltre ad essere una Maxi maglia Vi può fare anche da mini dress Da abitino Ok Guardate come è carina Sempre un ottimo cotone Garzato Molto elasticizzato Si presta molto E abbiamo anche Le taschine laterali Allora Colori disponibili Abbiamo il color Coccio Il panna Il verdone Il verde militare L'ottario E l'ultimo colore Eccolo qui Il nero Su questa devo dire che il nero è molto molto carina Spicca veramente tanto Però sono belli tutti i colori Il prezzo ripeto 24 e 90 Ragazzi Cotone Ottimo Garzato Bello Consistente Cioè Parliamo sì di cotone Però chiaramente non parliamo di Più di quel cotone Leggero Leggero Fino fino Estivo Parliamo già di un cotone Un po' più consistente Che tende All'autunnale E poi vediamo che anche su questa casacca Abbiamo già La Manichina Lunga Ok Allora Per quanto riguarda invece Il pantalone Il pantalone Parliamo di un pantalone Ripeto In viscosa Anche questo un pochino più autunnale Come tessuto Il prezzo è 17 euro e 90 Le misure sono di vita Da 86 a 144 Sui fianchi partiamo da 120 a 160 Lunghezza 96 Qui abbiamo tanti colori sfiziosi secondo me A partire da questo Che è un Chiamiamolo turchese Via Ok Poi abbiamo una versione un po' più scura Che vado a chiamare carta da zucchero Tanto per distinguere Quindi questo un po' più acceso Un turchese Questo un carta da zucchero E poi Andiamo con un color biscotto Nero ovviamente Blu scuro E gli ultimi due colori Sono Il verde militare E il bordeaux Perché questo bordeaux poverino C'è tutto ammucchiato sotto Dicevo il bordeaux e il verde militare Ragazzi il prezzo Ripeto 17 euro e 90 Vita 86 a 144 Fianchi fino a 160 Diciamo abbondanti Lunghezza 96 Tanti colori carini Ragazzi Un po' più autunni Come pantaloni Fateci un pensierino Perché è comodo Ok? Allora Io mi sono dimenticata Volevo far vedere Qualche borzetta Per esempio Tipo queste Ragazzi oggi avevo detto Che vi faccio vedere un po' di borde Invece non ce l'ho fatta Silvia scusa la maglia Che indossi Quali colori c'è? Samanta la mia maglia E la sono persa Eccola lì Il messaggio davanti E quella di resta Questa vero? Allora Eccoli qui i colori Verde Ottagno Ruggine E nera Samanta Eccoli qui i colori Verde Ottagno Ruggine E nera Il prezzo 17,90 Allora Ragazze volevo Celeste per Anna Subrizi Di che parliamo? Perdonami Anna Stiamo parlando del partalone Che io ho chiamato Turchese Anna Subrizi Mi confermi che è questo Per favore? Allora Volevo farvi vedere Questa borza Nuovissima Bella Grande Direi Guardate Quanto è carino Il prezzo È di 19,90 Disponibile Ciclamino Color Jeans Nera E Blu Scura Sì Scusami Fai vedere La borza Accanto A quella Verde Per favore Oddio Ma di quale parli? Di quella Per terra Barbara? Allora Intanto Posso queste Che sono belle Grandi Vi ricordo Vi ricordo Che all'interno Ci sono sempre Le tracoline Ok Quindi al di là Dei due manici Abbiamo anche La tracolla All'interno Allora Dimmi se è questa qui Quella che vuoi vedere Quella che vuoi vedere Eccola qui 19,90 Disponibile In rosa E in lilla Jeans per Romilda Divino Ecco la Romilda Ecco la Romilda Per te Ok Ci siamo Allora Barbara Fammi sapere Se la vuoi Questa qui In rosa Intanto L'appoggio Qui Credo Che era quella Perché ha detto Vicino La verde Vabbè Aspettiamo un attimino La risposta La vuoi Barbara Quindi te la devo dare Allora Ok Eccola per te Barbara Perfetto Volevo farvi vedere Un altro articolino Carino Sempre una borsetta Con la tracolla All'interno Leggermente più piccola Rispetto a quelle Che vi ho fatto vedere Poco fa Costano 17,90 euro Vedete Un po' più piccolina Sempre doppi manici Sempre tracolla Dentro Jeans Tiffany Nera E color Cuoio Perché comincia Entrare Anche questo colore Sulle borze Facilmente abbinabile Molto Carino Vedete Un colore Un po' come il rosso Che si abbina Un po' con tutto Quindi Cuoio Nero Tiffany E jeans Qui abbiamo Una cerniera centrale Cerniera dietro E Questo Disegno Qui davanti Molto carino Il prezzo Di questa borsa È 17,90 euro Allora Riprendiamo con Con gli outfit Poi ogni tanto Vado qua e là Vi faccio vedere Qualche Qualche Bruzza Ok Allora Proseguiamo Con questo Outfit Molto Molto Carino Ah Questo è quello Lì nuovo Ok Allora Qui abbiamo Un Un Giacchetto Modello Chiodo Molto bello In ecopelle Elasticizzato Abbiamo abbinato Una cosina Ecco In questa maniera Per spezzare un po' Quindi una canotta In raso E Un bellissimo Pantalone In licra Con l'elastico alto La fascia alta E adesso Vi vado a dare Tutte le misure Tutte le informazioni Allora Partiamo Partiamo Aiuto Se ci riesco Allora Partiamo dal Giacchetto Allora Prima di tutto Aspettate La collana 50% di sconto La collana 9,90 euro Piuttosto che 19,90 Eccola qua Molto carina Allora Il giacchetto Modello Chiodo Prezzo 39,90 euro Le misure Sono Da 100 Ma Sicura? Ma Prendemi un po' Le misure Non mi quadra Non può essere Quello Secondo me Non è il suo Allora Datemi un secondo Ragazzi Che controlliamo Un attimo Le misure Non può essere Quella là No No Per portare Il metro Eccolo Ok Dammi una controllata Allora ragazzi Intanto vi faccio vedere I colori E poi vi dico bene Le misure Allora Parliamo di Nero 136 Eh Questo 120 Non è poco possibile Allora Nero Non è il suo Il cartellino Nero Allora Color cuoio Poi Il verde Mela Bellissimo Turchese E in ultimo Abbiamo Il color Pan E il lilla E adesso vi faccio vedere Anche il rosso Eccolo qua Eccolo qui Allora Le misure Sono La lunghezza Sono 62 Centine Il seno E i fianchi Sono uguali Partono da un minimo Di 110 Fino a 136 E come vi dicevo Il tessuto È un ecopelle Elasticizzato Che ci aiuta Sicuramente molto Per la vestibilità Quindi Tanti colori Rosso Lilla Panna Turchese Verde Cuoio E nero Andando avanti Proseguiamo Con la canotta Questa è la nostra canotta Che noi utilizziamo tantissimo Come sottogiacca Per tantissime situazioni Mi parla Monica Seno Di che cosa? Del giacchetto? L'ho appena detto 100 Da 110 A 136 Sia seno Sia fianchi Del giacchetto Ok? Lunghezza 62 Prezzo 39 E 90 Allora Proseguiamo invece Con Nero Per Monica Ok Fatto Monica Allora Le nostre canotte Allora Canotte con elastico dietro Sfallina regolabile Pizzo sul collo E pizzo sotto 120 Fino a 150 Sia seno Sia fianchi Bello abbondante Lunghezza 76 Non mi compaiono i messaggi Strano Monica Oh vabbè Allora Lunghezza dicevo 76 Il prezzo è di 14 euro E 90 E anche qui sono arrivati Tanti colori nuovi A partire dal blu elettrico Il Tiffany Lo champagne Poi Il color coccio Il viola Il rosso bordeaux E in ultimo Andiamo con Il giallo ocra Il nero Il lilla Ok glielo diamo subito Il verde gucci E Turchese Erika Sintoni Viola anche Ok Quindi No no quello l'ho Libia Friggiotti Bordeaux Erika Sintoni Viola Ragazze Tanti colori Nuovi Stefano Quindi Giallo Nera Lilla Verde Turchese Coccio Pan champagne Chiamatela come preferite Tiffany E blu Elettrico Il viola E il bordeaux Sono comunque ordinabili Perché sono tutti colori Nuovi Disponibili In magazzino Allora Ok Andiamo avanti E passiamo al pantalone Allora il pantalone Ragazze Invece che sta in questo outfit Costa 15 euro E 90 Ed è disponibile In 5 colori Allora Cristina Soria Ciao Canotta blu elettrico Champagne Ammazza tutte Allora Aspetta eh Blu elettrico Poi Champagne Coccio Nero E Turchese Cristina Mi sa che a te Ti piacciono tanto A parte sono Utilissime Poi Oriana Trafficante Invece vuole Nera E coccio Allora Coccio Te la posso dare E nera La dobbiamo ordinare Fattoriamo Non ti preoccupare Prendiamo l'ordine Ripeto ragazze Tutti i colori Che sono andati via Si possono ordinare Eh lo so Cristina Gialla per Monica Ferrara Lo so Lo so Questo è un articolo Pensa c'è sempre Estate e inverno L'unica cosa che si fa E che si aggiornano i colori Per esempio Quest'estate Avevamo colori Molto più sgargianti Molto più accesi Più chiari Adesso già Stanno arrivando Colori comunque Più No più scuri Però Si vede che si va Verso l'autunno Insomma Allora Intanto dicevo Il pantalone 15 euro e 90 Pantalone palazzo morbidissimo Da 70 a 124 di vita Fianchi da 120 A oltre 180 Lunghezza 105 Ragazze Solo 5 pezzi disponibili Sono gli ultimi 5 15 euro e 90 Biscotto Biscotto Blu elettrico Un pezzo nero Un pezzo nero E in ultimo Questo lime Bellissimo E ciclamino Ok Ripeto 15 e 90 Patrizia Pastore Nero Nero Benissimo Grazie Patrizia Rina Ciancio È andato via Il nero Ragazzi Chissà se però Il magazzino ci sono Li vogliamo provare Chiederti Allora ragazze Io senza impegno Biscotto Blu E nero Ok Io senza impegno Provo a prenotarli Il magazzino Però non vi posso dare La certezza Io ci provo Allora Dimmi biscotto Biscotto blu E io lo ordini nero Poi ce n'ho altri due neri Aspettate ragazzi Dimmi quando sei pronta Io ti dico i colori Ragazzi Io sto prendendo Le prenotazioni Però non posso Mettere la mano Sul fuoco Nel senso Che non so I colori rimasti In magazzino Anche se poi Questo è un pantalone Di Praticamente Prima che chiudevamo Per le ferie Quindi veramente Di due settimane fa Non è vecchio Allora dimmi tu Quando sei pronta Ah già Ciancio l'hai scritto Allora dimmelo Irina Nero Ma Barbara De Angelis Il bece L'abbiamo E ce l'ho dopo Io c'ho prima Irina Nero Vabbè tanto Mo ti dico tutti Vai De Angelis Barbara Biscotto Chiamalo Vabbè L'ho chiamato Biscotto Ciao Arrivo adesso Volevo chiederti Non mi fa volere Riusciresti a provare Il giubbino Cuoio insieme Il pelle E Clara Nero Claudia Non ho capito Lo devo provare Lo devo misurare io Mi sa di sì Questi pantaloni Fino a che taglio Posso arrivare Maria Elena Io credo 41 Allora La nostra modella È 54 E li calza tranquillamente Quindi Di vita Arriva a 124 126 Sui fianchi Superini 180 Secondo me Fino a 56 Penso Ok Allora Claudia Io non ho capito bene Vuoi che mi misuro Il 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 chiodo Color cuoio Ho capito bene Ah sì Mi dice A me sta grande Però eh Claudia Perché Insomma Questo è un modello Curvy Vedi Io me lo misuro Però Eccolo Diciamo che Puoi poterlo indossare Io Non è che è enorme Però si vede Che non Non è della mia taglia Però Basta 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 Già essere Poco poco Più grandi Di me Magari Già una Due taglie In più E già la situazione Cambia Vava sicuramente Molto meglio Dimmi se lo vuoi Claudia Naturalmente Allora Ok Ah ma ancora è presto Ragazzi i pantaloni Sono rimasti Due colori Il Lime Che è molto carino Ok C'è qualcosa Che è A cosa Ah te Oddio no Ti che c'hai E il ciclamino Bevi un po' d'acqua Poi l'acqua Claudia Se tu sei identica A me Come Tania Allora Sì è un po' grande Se sei già una Due taglie in più In realtà potrebbe Andare tranquillamente Sanna Maria Elena Lo vuole nero Se si può ordinare Ci proviamo Maria Elena Ripeto Senza impegno Perché non sono sicura Della disponibilità In magazzino Ok Ora ci proviamo Visto che c'è interesse Proviamo Allora Passavati No Allora Ragazzi Andiamo avanti Questa volta Con un altro Outfit Molto molto carino Parliamo Di un Giaccone Sportivo In Dainetto Il prezzo Se non erro È di 29 euro E 90 In vari colori Sotto abbiamo Abbinato Questa casacchina Colorata Simpatica E questo Pantalone In viscosa Che tra l'altro Oggi È anche in saldo Anche questo Pantalone E adesso Vi vado A far vedere Un po' tutto Allora Partiamo Dal Giaccone Allora Ci sono Cinque colori Viola Verde militare Ciclamino Coccio E nero Le misure Sono 134 Fino a 160 Di seno Fianchi Da 140 A 174 Lunghezza 85 Ok Allora Il tessuto Ripeto In dainetto Elasticizzato Il prezzo Confermo Che è di 29 euro E 90 Allora Colori disponibili Viola Il verde militare Il cilamino Il color Coccio E Nero No ragazzi Che Tiziana soffre un po' di pressione bassa Ogni tanto C'ha quei momenti Poi a quest'ora Anche un po' di stanchezza Allora Cinque colori Poi Vado A farvi vedere La casacchina La casacchina È un modello A barchetta Molto Molto Carino Il prezzo Vediamo un po' Ma questo È un Ah ok Eccolo qua Dicevo Il Il prezzo È di 19 euro E 90 Perché lo sai Guarda così Le misure Sono 120 Di seno 130 Sui fianchi Lunghezza 65 Prezzo Ripeto 19 90 Il tessuto È in Giorgetto E il modello Come vedete È a barchetta Quindi Se volete Da calare Sulle spalle I colori Disponibili Sono 6 Allora Abbiamo Il colore 1 Che è un verde Militare Il numero 2 Che è un Ciglamino Il numero 3 Blu Scuro Numero 4 Ottanio E infine Il 5 Che è un viola E il 6 Che è una base Nera E questo È quanto Per la casacca A barchetta Poi Ritorniamo Invece Sul pantalone Che dicevo Che oggi È in saldo È un tessuto Viscosa Leggero 6 Allora Eccolo per te Monica Allora Il pantalone Dicevo È un tessuto Leggerino Oggi È in sconto A 9 Euro E 90 Questo Chiaramente Non posso Riassortirlo Perché è Super Scontato Ho diversi Colori Allora Le misure Sono 120 Di vita Da 80 A 120 Sui fianchi Fino a 140 Lunghezza 100 Ne ho Uno Nero Laura Persigni Nero Ok Eccolo Poi Il nero È andato via Adesso Ho il verde Militare Il blu Scuro Ottanio Sabbia Verde Petrolio E blu Elettrico Ripeto Ragazzi 9 Euro E 90 In sconto Le misure Barchetta 1 Per Oriana Eccolo per te Oriana Le misure Ripeto Del pantalone Di vita Sono Da 80 A 120 Sui fianchi Fino a 140 Lunghezza 100 Pantalone Con taschine Leggerino Prezzo Scontato Perché sono Gli ultimi Pezzi A 9 Euro E 90 Il nero È andato via Il rimane Il verde Militare Il bluet Il verde Il verde Petrolio Il biscotto L'ottanio E il blu Scuro Blu e verde Per gonter Blu E verde Verde quale però Contier Patrizia Il verde Il verde Petrolio Il verde Militare Lo vorrebbe Sabrina Buonanotte Com'è il nero È rientrato Ce li pensavo Eccolo di vita Ah ok E aspetta Claudia Perché il verde Militare È andato via È andato Sabrina Buonanotte Se Patrizia Contier Mi conferma Il verde Gucci Io non mi dici niente Vabbè Io do uno All'altra Allora Buonanotte Il verde Militare Contier Il verde Petrolio Sì Le legghi Insegopelle Che hai presentato Ieri Li hai ancora Sì Cristina Assolutamente Sì Sono ordinabili Maglia La barchetta Qualsiasi Guarda Cara Se vuoi Ti do La ciclamino Che è un colore Mio preferito Dimmi se va bene Rina Confermami Io lo adoro Quindi è il primo Che consiglio Se non Alternativa C'è blu Ottanio O viola Contier Ha confermato Petrolio Perfetto Grazie Patrizia Così abbiamo sistemato Entrambe Rina ha detto Va bene Oh mamma mia Cristina Ne vorrei Uno nero Oddio Di che parlavamo Con Cristina Di pantaloni Ah di leggings Dobbiamo appuntarci Leggings di ecopelle Ci facciamolo appunto Cristina Tanto ne abbiamo Ordinati una marea Stefania Tomatis Nero E blu elettrico Perfetto Fatto Stefania Benvenuta Non ti ho vista Per niente Oggi Ieri c'era Stefania Mi ricordo Sì Ok Allora ragazzi I pantaloni Sono rimasti Solo due pezzi L'ottanio E il biscotto Vi ricordo Che sono A 9 euro E 90 Che di vita Arrivano a 120 Di fianchi Arrivano a 140 E la lunghezza È 100 cm Ok Allora Voglio Ah ma è presto Ancora Sono le 7 Facciamo un altro Te la senti Sicura Perché ti prende Un po' d'acqua Qualcosa Fresco No no Ma è stato Un calo Un calo proprio Maria Aspetta un attimo Aspetta Aspetta Biscotto Vuole un secondo Però non ce l'ho Proprio qua vicino Perché sono stati venduti Tutti Abbiamo preso pure Gli ordini Allora Ragazzi Diciamo Andiamo avanti Con un altro Outfit Allora Questa volta Abbiamo Molto molto carino Un abbinamento Composto Da un giaccone Bello Scamosciatino Anzi Non scamosciatino Aiutami Vellutino Vellutino Oh ma perché oggi Sto nome non mi vuole Perché ce l'abbiamo In due versioni C'abbiamo la giacca E il giubbottino Sì ma a me il belluto Che non mi viene Perché ti sta sulle scatole No Non mi piace proprio Bello morbido A me piacciono i pantaloni Il belluto A palazzo Ti piacciono Eh ma comunque Gli arriveranno Figurati Allora Ragazze Quindi Giacone Con cappuccio Carinissimo In belluto Casacchina sotto E Vero Abbinato Il pantalone Che noi chiamiamo Pagliaccetto Molto carino Bello morbido Vi vado a descrivere Un po' tutto Nel dettaglio Allora Partiamo con il giacchetto Allora Il giacchetto Innanzitutto Costa 29,90 euro Guardate che carino Soprattutto anche In questo colore Allora 146 Fino a 180 Di seno Fianchi Da 140 A 174 Lunghezza 78 Quindi anche Bello lungo Colori disponibili Abbiamo Il Beige Discotto Come preferite Il blu scuro Poi Il jeans Bellissimo Questo colore Un bel jeans Si vede un po' più Invernale Il nero Il ciclamino Il ciclamino Il ciclamino Il ciclamino È meraviglioso Sul velluto Sono tutti belli Colori Il verde Militare Ripeto ragazze 29,90 Ottima vestibilità Bella Grande E poi Scusate se vado Veloce Però Siamo Oltre le 19 Come orario Poi Eccola la collana Questa è la versione Da 14,90 In rosa Antico Multifilo Ragazzi È uguale a quella Che indosso io Solo nella versione Rosa Allora Dicevo Maxi casacca Guardate quanto è larga E quanto è bella Il prezzo della casacca È di 16,90 Sì 16,90 Ragazzi È anche un ottimo prezzo Secondo me Perché 16,90 Una maxi casacca Così È bellissima Allora Le misure sono 130 140 Seno Fianchi partono Da un minimo Minimo Di 170 Oltre 180 Ah Ci vai in bicicletta Arober Casacca ciclismo Ah Arober Beh Non mi sembra Tanto adatta Per andarci a faciclismo Dai Scherziamo Ti abbiamo capito Ciclamino Per Roberta Farinelli Allora Dicevo È la lunghezza 78 Quindi Ripeto Fino a 140 Di seno Più di 180 Sui fianchi Lunghezza 78 Il ciclamino Che è andato via È ordinabile Poi abbiamo Il nero Il viola Molto carina Questa qui E poi un ottimo prezzo Ragazze È 16,90 Verde petrolio Ottanio Color coccio Che adesso sta andando tantissimo E blu scura Ok Io credo che questo mi sa che toccherà farle rivedere domani Perché ormai siamo a fine diretta Siamo anche poco Parere bosco Non ho capito Che vuol dire Parere bosco Forse voleva dire verde bosco Barbara Hai scritto mai Dimmi se la verde bosco Ok Verde petrolio Che poi è la stessa Per Laura Gallini Quindi la dobbiamo prenotare Allora Ragazze Ripeto i colori Nero Blu scuro Copso Ciao Maria Elena Ottanio Viola E nero di nuovo Come la scrivo? Che colori gli hai detto tu? Io verde petrolio Siamo abituati a chiamarla così Però verde bosco mi piace Sì Mi intriga verde bosco Quasi quasi Ponte soffioni Metto Pantano 41 16,9 Ok Allora Ultimo articolo del pomeriggio Andiamo con il pantalone Pantalone con tasche Bello morbidoso Sempre in tessuto scuba Quindi autunnale Abbiamo 5 colori disponibili Il prezzo è di 19,90 Vi do subito le misure Di vita da 70 a 144 Veste benissimo Fianchi da 130 a oltre 150 Siamo intorno ai 154 156 Lunghezza 98 E' carinissimo Ma soprattutto comodo 19,90 Abbiamo il ciclamino Il blu scuro Il sabbia Farinelli Il nero Te lo do subito E l'ottanio Allora il ciclamino Per Roberta Farinelli Mi fai vedere quanto si tira sul seno Perché sono giusta giusta No Claudia Ma quello si tira tantissimo Stai parlando della casacca? Dammi viola tranquilla Non ordinare solo per me Va bene Laura Grazie cara Troppo buona Allora Viola per Laura Gallini Pantalone blu Per Sabrina Buonanotte Guardate questi pantaloni Sono spettacolari Oriana Traficante Nero Allora Ti dico La misura del giroseno Al massimo Ce ne hai tu Mai Roma? Si Allora Dammi un attimo Che così Diciamo se c'è un po' di tolleranza Allora Ma io c'ho due Sabrina Buonanotte Blu Eppure Barbara De Angelis Blu L'ho letto adesso? Anch'io l'ho letto adesso Eh E prima dove stava? Allora lo devi segnare Non l'avevo visto Allora Il La casacca La sua estensione massima Tirando più possibile Arriva a 144 Ok Perché mi fa 72 Tirandolo al massimo Quindi raddoppiando 144 Ok Ma comunque Mi sento di dire Che essendo Un tessuto elasticizzato Di solito Non dà problemi Il problema Si crea Quando i tessuti Sono fermi Lì è un problema Ottagno Per Romilda Divino Allora scusa Ero al telefono Mi dà le misure Di quest'ultima Silvia Allora Le misure della casacca Sono Fino a 144 Di seno Fianchi Questa vai alla grandissima Perché partiamo da un 170 Di minimo E superiamo i 180 Lunghezza 78 Dimmi Silvietta Se ne vuoi una Dobbiamo ordinare Ottagno Per Angela Sana Al pantalone Allora Qui mi rimane Intanto L'ultimo pezzo Sabbia E' andato via E' andato via L'ottavio Il blu scuro Il blu scuro Il cilamino E nero Tutti Inordinati Hai di scritto E' andato via Ottavio Ottavio Baccio nero Il pantalone Grazie Cristina Anche noi Vi adoriamo Ma noi ci divertiamo Nelle dirette Certo Per noi è sempre Lavoro Però Per carità Meglio ridere un po' E lavorare Piuttosto che Ma è Maira Con muso lungo Maira che rimprovera Sempre quel poraccio Di fefano Ok Allora Lì ne abbiamo fatto Ragazze Qui mi rimane L'ultimo pantalone Color biscotto Bece biscotto Qui ho le ultime Casacche Fatemi sapere Adori tutto Meno male Dai che ti adoro Anche a te Manu Madonna mia Quando vieni La prossima volta Ti do un sacco Di bacetti Allora Rimedi misure Pantaloni Sì Allora Le misure dei pantaloni Vessono molto bene Perché partono Da 70 Di girovita Fino a 144 Fianchi Da 130 A oltre 154 Guarda Ma non è che te più Ammozzi Invece che bacetti Quando vieni la prossima volta Lunghezza 98 Ok Irina Dimmi se vuoi un colore Uno me l'hai dato De che Che vuole lei De bacetto Ah de bacetto Ah ok Brava Lina Ragazze non vi dimenticate Di condividere Anche stasera Domani Quando volete E ricordatevi che Sabato Alle ore 12 Faremo una breve diretta Dove faremo L'estrazione Dei tre premi Che abbiamo messo In palio No Irina Guarda Questo Veste bene Già a partire Da una 44 46 Perché l'elastico Si dilata A seconda Di quello che serve Ma in maglina La casacca Scusa No Claudia La casacca Questa è in viscosa Manica Tre quarti Che diventa Manica lunga Ordino Un pantalone Nero Per Clara Va bene Ce l'hai tu Su Instagram Giusto Ah si si Come mozzico io Ma non è Con sta fame Che mi ritrovo Ok Allora ragazzi Io direi di chiudere Sono le 19 15 Anche perché domani Sapete bene Che c'è un'altra diretta Ragazze Non mancate Perché continuiamo Con le novità Ma inoltre Domani Ce lo svuota tutto Quindi Tanti Articoli In saldo Mi raccomando Ragazze Fate passaparola Condividete Condividete Non mancate Vi auguro Una buona Serata Un bacione A tutte Soprattutto Emanuela Castrighella Che se no La devo mozzicare Ciao ragazze Buona serata Ciao Ciao Ciao